Allora, possiamo avviare l'udienza. Allora, scusateci per il ritardo, ma avevamo una riunione col Presidente della Corte per l'ufficio del processo. Possiamo costituire le parti. Filippone Roccosanto, mi date atto della sua presenza? Grazie. Buongiorno, Presidente della Corte. Filippone Roccosanto, per i 10-13-1949, è presente. Signor Presidente, che sono stati i suoi diritti di materie di conferenza e non sono potibilità, la Corte ufficiale dei DG è aiutato. Va bene, grazie. Difeso dell'Avvocato Guido Contestabile. Buongiorno, Filippo Strangi, per delega, anche del collega Stajano. Va bene, grazie. Quindi anche per delega dell'Avvocato Salvatore Stajano, entrambi assenti, sia Contestabile che Stajano. Graviano Giuseppe, mi date atto della sua presenza dal sito? Grazie, prendiamo atto della presenza. Difeso dell'Avvocato Giuseppe Aloisio. Buongiorno, Avvocato Adalgisa Di Benedetto, per delega. Va bene, grazie. Parti civili, Ministero dell'Interno e della Difesa, Avvocato Estrattuale dello Stato, Avvocato Delle Quattrone. Presente. Regione Calabria, Avvocato Michele Rausei. Assente. Comune di Reggio Calabria, Avvocato Rizzi, Vincenzo Rizzi. Assente. Comune di Rosanna, Avvocato Rosario Casella. Assente. Comune di... Presidente, l'Avvocato Giuseppe Basile, per delega del collega Casella. Allora, Basile per delega di Casella. Comune di Melicucco, Avvocato Iamundo, Leonardo Iamundo. Sempre io, Presidente. Sempre per delega, Basile. Pasqua Vincenzo. Assente. Avvocato Massimiliano Leanza. Ci sono io, Presidente. Per delega, Basile. Bartolomeo Musicò, Avvocato Giuseppe Canzone. Sempre io. Basile, per delega. Prossimi congiunti, Fava Antonino. Vicari Teresa. Fava Maria Antonia. Nira Antonia. Fava Ivana. Fava Valeria. Avvocato Antonio Ingroia. Ci sono io, Presidente. Basile per delega, i prossimi congiunti sono tutti assenti. Prossimi congiunti di Garofalo Vincenzo, Scano Patrizia, Garofalo Guglielmo, Garofalo Andrea, Avvocato Antonio Ingroia, per delega Basile. Giusto, Avvocato? È così? Sì, sì, sì. Per Antonio Ingroia ci sono anche io. Garofalo Guglielmo deceduto, Giuca Giovanna deceduta, Garofalo Loredana, Garofalo Carmela, assente, Avvocato Gaia, Maria Lamicela, per delega, Avvocato Basile. E quindi abbiamo costituito tutte le parti. Va bene. Poi ci sono, Presidente, io personalmente per due parti civili. E l'avevo trasciato, aspetti un attimo. Fava Vicari Teresa e Fava Maria Antonia. Sì, 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 Vicari Teresa e Fava Maria Antonia, certo, l'Avvocato Basile. Grazie. Giusto, presente. Mentre i prossimi congiunti sono assenti. Va bene. Ci siamo. Abbiamo costituito. Allora, possiamo proseguire con l'audizione del teste. E quindi diamo la parola al Procuratore Generale che prosegue l'esame. Il teste è presente, ci dice il nome e cognome, giusto per la registrazione. Di Stefano Michelangelo. Va bene. Prego, Procuratore Generale. Grazie, Presidente. Mi autorizza stare seduto? Sì, certamente. Allora, Dottor Di Stefano, procederei così se lei è d'accordo. Se ci sono, diciamo, le integrazioni e le precisazioni da fare su cui lei aveva assunto riserva nel corso della precedente udienza, le farei subito. E poi andrei a proseguire con l'illustrazione delle slide. Chiederei questo schermo perché una parte di Stefano non lo vede proprio. Se possiamo collocarlo un po', spostarlo un po' verso di noi. Cioè orientarlo verso di voi, Presidente. Un po', sì, lo possiamo spostare così, ecco. Sì. Sì, sì, leggermente sì, credo. Ancora, ecco, basta. Però loro poi non lo vedono. No, 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 si vede, si vede, credo che si vede. Dico per loro. Va bene, va bene. D'accordo. Hanno il cartaceo, Presidente. Benissimo. Anche di più a questo punto, a me non serve. Vabbè, allora intanto io posso cominciare perché tanto le slide in questo momento non ci servono. Anche di più. Anche di più a questo punto. Giratelo l'altro po'. Ok, basta così. Allora, Dottor Di Stefano, magari facciamo le precisazioni se lei è in grado di... Sì, mi dicevano i giudici che da questa parte non vedono completamente. Diceva? Forse serviva a lei quello. No, a me no, no. Forse per i giudici che non riescono a vedere. Eh, dovremmo... Va bene, va bene. Poi abbiamo il cartaceo, comunque lo vedranno in ogni caso il cartaceo. Questo sulle slide, poi glielo possiamo fare vedere. Allora, nel corso della precedente deposizione, il Procuratore Generale mi aveva posto alcuni quesiti riguardo all'acquisizione di alcuni fonti in merito a una cronologia di una serie di riunioni, di summit, che si sarebbero susseguite negli anni. Quindi, prima di andare avanti nell'illustrazione, cercherò di sciogliere le riserve che avevo formulato in quella giornata. Innanzitutto, una prima questione riguardava quella dell'acquisizione documentale che riguardava una perizia del Professor Aldo Giannuli in relazione al servizio cosiddetto anello, a una perizia fatta dal Professor De Lutis in merito ai collegamenti tra le organizzazioni criminali e le loggi massoniche coperte e, con modo particolare, alla loggia scontrino. Altri documenti che riguardavano dei richiami al funzionamento delle centrali SIP controllate da servizi di sicurezza e l'acquisizione di altri elementi testimoniali che erano stati desunti da una sentenza, in particolare quella della sentenza Rostagno. Ultima cosa riguardava l'acquisizione di una serie di elementi attinenti delle perizie eseguite da Gioacchino Genchi in relazione alla strage di Capaci e i telefoni NEC P300 che sono stati utilizzati nel corso dell'attentato. Partendo dalla relazione dell'anello, si tratta di una relazione peritale svolta in ambito al procedimento penale numero 2 barra 92 F Firenze, RGGI e numero 92 A RGPM, avente stato oggetto reperti di via Appia. L'acquisizione è stata effettuata attraverso l'archivio di Gero Grassi che, da componente di una delle commissioni parlamentari d'inchiesta, poi aveva riversato su internet, all'interno di un suo sito, tutto ciò che era stato oggetto di discovery non più coperto dal segreto. Per quanto riguarda poi la perizia dell'Utis sulla loggia scontrino, questa riguarda i procedimenti penali numero 219 barra 86 RGGI e numero 1329 barra 84 RGGI di Palermo. Per quanto riguarda invece i riferimenti fatti alle centrali SIP, questi approfondimenti sono stati acquisiti da noi personalmente nel momento in cui abbiamo fatto un accesso presso l'archivio Flamigni. È un archivio storico realizzato dall'ex senatore Sergio Flamigni che ha fatto una serie di studi molto approfonditi sulla vicenda Moro e che ha ereditato l'archivio privato di Giuseppe De Lutis dopo la sua scomparsa. Noi abbiamo integralmente acquisito tutto quell'archivio, siamo stati circa sei mesi a lavorarci e abbiamo acquisito qualcosa come un terra di materiale. Per far comprendere in termini di peso informatico di cosa sto trattando, un'informativa di questa dimensione può essere pesante un mega, un mega e mezzo. Mille mega fanno un giga, quindi un terra è l'ulteriore moltiplicazione di mille giga. Poi altri riferimenti sono stati acquisiti attraverso la sentenza di primo grado in relazione all'omicidio di Mauro Rostagno. La sentenza è la numero 7 barra 2010, registro assise numero 22 53 barra 97 RGNR PM DDA di Palermo. Per quanto riguarda invece i riferimenti alle consulenze svolte in più procedimenti da Gioacchino Genchi, i riferimenti sono molteplici e riguardano sia i processi Capaci 1 e Capaci 2 sia i due procedimenti trattativa. L'acquisizione che noi abbiamo fatto l'abbiamo fatta attraverso delle fonti internet e in modo particolare da Antimafia 2000 e dal sito personale di Gioacchino Genchi dove sono riportate degli stralci dei contenuti di quelle sentenze così come lo abbiamo ritrovato anche da altri frammenti di stampa presenti sul web. Quindi ci riserviamo eventualmente poi di riprodurre all'attenzione del Signor Procuratore Generale le relative sentenze integrali perché sono sentenze di circa 5-6.000 pagina. Quindi in questi giorni non c'è stato facilissimo poterlo fare. Quindi questa era la prima parte di integrazione. Non so signor Procuratore se dovevo aggiungere altro come acquisizione documentale. Se ci sarà altro da precisare lo faremo in seguito. Poi un'altra questione riguardava invece quelle che erano le fonti documentali di apprendimento in merito alla vicenda di di Luigi Lardo che si sarebbe recato ad Ardore pochi giorni prima di morire. Quindi il riferimento che noi prendiamo è un'informativa del ROS del 30 luglio del 1996. Quando dice ROS cosa intende? Prego. Quando dice ROS cosa intende? ROS centrale o reparti sezionale? Le do immediatamente il riferimento. Allora, è raggruppamento operativo speciale Carabinieri primo reparto investigativo. L'informativa è del 37 1996 numero 231 barra 10 di protocollo avente ad oggetto indagine Grand Oriente con destinatari le procure della Repubblica di Caltanissetta, Catania, Palermo e per conoscenza Genova e Messina. Va bene. In quel contesto avevo pure fatto riferimento a delle esternazioni che Luigi Lardo avrebbe fatto alcuni giorni prima del suo omicidio in occasione di una convocazione avvenuta a Roma alla presenza di più soggetti istituzionali tra cui magistrati e appartenenti all'arma dei Carabinieri. In modo particolare una serie di esternazioni che avrebbe riguardato vecchi attentati che, a dire dell'Ilardo, avrebbero potuto essere ricondotte a soggetti dello Stato. I riferimenti sono la sentenza di primo grado a carico di Mori Ubinu. Nello specifico dagli atti della sentenza, alla pagina 1057, sono richiamate le dichiarazioni dell'Ispettore Mario Revidà. il quale a un certo punto dice il dispositivo. Il Riccio avrebbe poi richiamato il confidente facendogli presente che di quegli argomenti avrebbe dovuto parlare i magistrati. Poi è indicato, rimasero a parlare un pochettino, il colonnello Mori, Riccio e la fonte stessa. E la fonte è per dire al colonnello Riccio che lui non avrebbe parlato solo di fatti di mafia, ma avrebbe riferito anche sulle stragi che avvenirono in Italia intorno agli anni 60-70. Stragi che lui definì di Stato perché gli esposivi erano usciti da, usati per quelle stragi, erano usciti da caserme militari. Il Pubblico Ministero chiede, mi scusi, chi è che aveva definito e parlando con chi quelle stragi di Stato? Risponde Revidà. Le aveva definite la fonte Ilardo Luigi alla presenza di Riccio e Mori. Almeno questo ebbe a dirci Riccio. Il Riccio diceva che aveva un certo fondamento perché prima dell'arresto dei 15 anni di detenzioni da parte di Ilardo, Ilardo faceva da autista un personaggio che se non erro si chiama Tisena o Ghisena, una cosa del genere, calabrese, ma questo personaggio poi morì successivamente, ma era legato a servizi segreti, deviati e massoneria. Ghisena con questi settori della massoneria deviata, sto andando per stralcio, Ghisena con questi settori della massoneria deviata e dei servizi segreti, Ilardo avesse già, mi chiedo scusa e ripeto, qui sembrerebbe che Riccio riferisce che in questo rapporto con Ghisena, con questi settori della massoneria deviata e dei servizi segreti, Ilardo avesse parlato già nell'incontro romano. Ora il soggetto che viene citato come persona di cui Ilardo era stato autista non è Ghisena ma Giovanni Chisena, persona che ai tempi del procedimento Olimpia era stato attenzionato in relazione a una vicenda articolata che riguardava l'industria, la fabbrica della liquid chimica di salina ionica di cui Ghisena era uno dei manager di riferimento. In quel contesto la liquid chimica sarebbe stato oggetto anche di una serie di attentati, da altri riferimenti che abbiamo acquisito parallelamente in altri procedimenti penali e in altri rivoli che dipartono da questo procedimento, in quel contesto storico politico criminale alcuni di questi attentati sarebbero stati riconducibili all'EUCC che sarebbe l'acronimo di Unità Comuniste Combattenti. Da lì abbiamo fatto una ricostruzione che faccio soltanto per capire quali sono i temi ma non li approfondirò. Le Unità Comuniste Combattenti furono interessate ad una rapina avvenuta a Nicotera Marina all'interno di un villaggio Valtur che sarebbe stata da individuare quale momento protromico per poi quelle che sarebbero state le fasi preparatorie ed esecutive del sequestro Moro. Questo se non altro perché tra i componenti di quella rapina ci sarebbero stati poi dei personaggi che a vario titolo sarebbero stati legati alla vicenda Moro. Tra i componenti di quella rapina vi erano esponenti della Ndrangheta Calabrese e in particolare della Cosca Pesce Bellocco. Uno di questi componenti sarebbe stato poi identificato 48 ore dopo il sequestro di Aldo Moro mentre rientrava a Reggio Calabria assieme a una donna che era stata l'ex moglie di un docente universitario che prestava servizio presso l'università di Cosenza, Franco Piperno, a sua volta poi inserito in contesti che riguardavano le simpatie della sinistra e una sorta di progetto politico all'interno delle università. Sta di fatto che in quel contesto poi all'interno dell'università a seguito di una segnalazione furono trovate due persone di nazionalità estera all'interno di un appartamento di un alloggio che era occupato dal fratello del docente universitario. Queste due persone identificate esibirono due documenti di identità che erano due passaporti tedeschi. All'epoca non c'era internet per poter, faccio comprendere qual è la difficoltà nel poter fare un accertamento pratico, per poter inviare la fotografia del passaporto a Roma si faceva attraverso un sistema che si chiamava telecopier, quindi non era neanche un fax, quindi questa fotografia veniva via trasmessa. Per mandare un'immagine con un telecopier ci vogliono qualcosa come 40 minuti, un'ora, un'ora e mezzo. Le risultanze poi da Reggio Calabria, da Cosenza a Roma, da Roma all'ufficio collaterale tedesco passarono circa dieci giorni. Avuta la risposta si comprese che questi passaporti erano stati rubati e che quindi le persone che li stavano utilizzando sicuramente non erano i reali titolari. Nel frattempo le due persone si erano date alla irreperibilità. I documenti erano stati rubati circa sei mesi prima in Egitto. Faccio questa precisazione perché nello stesso periodo in cui avvenne questa vicenda, sempre dentro l'università furono trovati un discreto quantitativo di proietti calibro 9 Parabellum, similari a quelli rinvenuti in Via Fani. Il lotto di questi proiettili da una prima ricognizione faceva parte di una commessa per l'Egitto. Quindi adesso chiudo questa parentesi che l'ho fatta giusto per dare una collocazione di cosa erano gli UCC nel contesto che noi stiamo investigando. Semplicemente perché poi ci saranno una serie di riferimenti che noi andremo a trattare in cui parleremo della presenza in Via Fani di un soggetto che poi sarebbe stato legato a Gladio e che era un colonnello dell'Arma dei Carabinieri, Camilo Uglielmi. Poi il procuratore generale mi aveva chiesto di fare una ricognizione su quelli che sarebbero stati i summit, le riunioni, nel periodo che era oggetto di interesse. Allora molto brevemente indicherò che le riunioni politico-criminali di particolare rilievo non sono soltanto quelle del 1969 e quella del 1991 ma sono diverse e le illustrerò in modo abbastanza sintetico. La prima riunione è quella del 1969 a Polsi e mi era stato chiesto di indicare chi fossero i partecipanti oltre quelli noti per parte criminale. Per non confonderci è quella che comunemente è nota come summit di Montalto, quella del 1969. Stiamo parlando del summit di Montalto del 1969. Allora le persone che erano presenti, che sarebbero state presenti e non arrestate, questo è anche precisato dalle dichiarazioni del Maggiore Antonio Parillo, resa in data 8 marzo 2018 nel processo Gota, sarebbero state Stefano Delle Chiaie, Valerio Borghese, Sacucci Sandro, Concutelli Luigi e Felice Genovese Zerbi. Devo fare una precisazione per dovere professionale. Il riferimento a Concutelli Luigi è un riferimento verosimile perché il summit è avvenuto il 26 ottobre del 1969 e da alcuni atti è emerso che Concutelli sarebbe stato recluso a Palermo a partire dal 25.10.2069, quindi dal giorno prima. Devo però fare una precisazione perché mi consta per una serie di attività che abbiamo fatto e di cui abbiamo avuto una serie di difficoltà. Si è verificato più volte che nel momento in cui abbiamo fatto acquisizioni documentali presso strutture carcerarie su fatti datati nel tempo, le ricostruzioni che sono state effettuate sono alle volte risultate non conformi a quelle che erano le reali situazioni. Alcune di queste situazioni ancora sono pendenti e abbiamo fatto più solleciti a più strutture carcerarie per capire se effettivamente quello che noi rileviamo da una serie di atti di indagini sia congruente o meno. Però le strutture carcerarie non sono state ancora in grado a darci una risposta per via della vetustata dei documenti, dell'impossibilità di trovarli e così via dicendo. Quindi in questo riferimento ho lasciato il beneficio di inventario su Concutelli perché da alcuni atti risulterebbe recluso il giorno prima. La riunione successiva sarebbe avvenuta nel 1970 a Catania. di questa riunione ne ho dato menzione io in occasione di una mia testimonianza agli atti del processo Gota. Precisando questo, riportando le dichiarazioni di un collaboratore di giustizia, avevo detto che Buscetta fa riferimento a una riunione che sarebbe avvenuta agli inizi del 1970 a Catania con Salvatore Greco e finalizzata a incontrare Pippo Calderone e Giuseppe Di Cristina in una villetta overlatitante anche Luciano Leggio. Oggetto di questo summit riguardava una proposta di partecipazione al GOLP che era stata inoltrata direttamente dal Principe Valerio Borghese. Quindi era una proposta che riguardava un intervento attivo da parte di Cosa Nostra in questa sommossa. Quindi è necessariamente una riunione che viene prima dell'8 dicembre 1970, quindi del GOLP dell'Immacolata. Altra riunione sarebbe avvenuta in località Sant'Elia, nei pressi di Palmi, nel 1973. Di questa riunione mi pare che sono sempre io a portare in evidenza il tema, sempre nel corso dell'udienza GOTA del 17 ottobre del 2018. E' preciso in quel contesto. Parlavo dei riferimenti che c'erano tra l'estrema destra e i modi che si stavano svolgendo. In questo contesto si fa poi riferimento a una sorta di avvicinamento che avvenne in occasione di un incontro avvenuto a Sant'Elia di Palmi, tra il Marchese e il Genovese Zerbi. Grazie. 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 Grazie a parla per il rifocillamento di munizionamento e nel caso concreto parlavano di bombe a mano uomo dell'OSRCM, mentre per quanto riguarda la posizione del marchese Genovese Zerbi e Stefano delle Chiaie di assumere i compiti strategici in relazione a quelle progettualità. Parlando ancora poi del tipo merceologico di approvvigionamento si parlava di approvvigionamento di strumenti idonei che erano quelli delle armi, degli esplosivi, di uomini e di mezzi finanziari al fine di arrivare a quel tipo di obiettivo ovviamente il riferimento, lo torno a precisare, era il golpe dell'Immacolata Dopo il 1973 si arriva al riunione del 1975 di cui avevo fatto cenno nella precedente udienza La fonte di apprendimento è una comunicazione della DIA di protocollo 5.967 dell'8 agosto 1997 Riporta la nota La scuola mobile di Roma ha avuto notizia tramite l'intercettazione delle telefonate di Giacomo Urbani che in uno dei ristoranti della zona dell'Euro avrebbero dovuto incontrarsi con dei pregiudicati carabresi tra cui il pericoloso latitante Saverio Mammoliti predispose ai servizi del caso e nei prestiti del ristorante Il Fungo vide giungere a convegno Giuseppe Piromalli che come risulta era in contatti telefonici sia con il La Barbera Angelo che con Cortese virgola Paolo De Stefano, Pasquale Condello, Giuseppe Nardi, Maglio Vitale e l'Urbani Gianfranco Ancora nell'abitazione di Nardi venne tra l'altro sequestrato un assegno di un milione di lire ho emesso dall'onipresente truffatore Giuseppe Barbaro in favore del De Stefano l'autovettura Mercedes sulla quale erano giunte nel luogo del convegno il De Stefano, il Piromalli, il Nardi e il Condello era intestata proprio alla RAF del Cortese nella precedente udienza io ho fatto riferimento al fatto che l'importanza di questo summit del 1975 era un momento di significatività politico criminale perché metteva assieme la banda della Magliana e l'andrangheta calabrese per di più con elementi che riguardavano la massoneria perché Carmelo Cortese da una successiva attività investigativa svolta alla Scuola Mobile di Catanzaro sarebbe risultato essere appartenente a loggie massoniche e in particolare alla loggia Propaganda 2 e in contatto diretto con Liceo Gelli quindi questo era il riferimento per quanto riguarda le fonti di apprendimento dei documenti che sono stati rinvenuti alla Cortese sono stati acquisiti attraverso gli atti dell'undicesima legislatura dove sono presenti una serie di documenti dissecretati posti a disposizione dalle commissioni parlamentari d'inchiesta e la perquisizione riferita è stata effettuata alla Scuola Mobile di Catanzaro il 28 febbraio del 1977 però il dato che qui diamo atto alla presenza dell'avvocato contestabile? diamo atto alla sua presenza avvocato o no? va bene allora quando verrà? no no va bene certo no nella precedente udienza avevo fatto un altro riferimento mettendo in correlazione la banda della Magliana e l'Andrangheta perché questa riunione sarebbe avvenuta a distanza di una settimana dall'attentato a Roma al dissidente cileno Bernardo Leiton e al fatto che poi sarebbero stati condannati elementi di estrema destra e personale dei servizi cileni per quell'attentato Bernardo Leiton era la persona che prima di Moro aveva cercato di arrivare al compromesso storico facendo un accordo tra la democrazia cristiana cilena e la sinistra di quel paese ma è altrettanto importante perché oltre che segnare quel collegamento tra la banda della Magliana e l'Andrangheta avrebbe segnato un collegamento che sarebbe avvenuto l'anno successivo nel momento in cui altri componenti della banda della Magliana avrebbero effettuato assieme a componenti dell'Andrangheta il furto alla Cassa di Risparmio di Reggio Calabria asportando il contenuto di una serie di cassette di sicurezza tra cui quella del Preside Zaccone che era notoriamente un gran maestro della massoneria regina al fine di poter prelevare degli elenchi massonici questo emerge a dare dichiarazioni di più collaboratori di giustizia in ambito del procedimento Olimpia però è altrettanto importante perché negli anni a venire noi avremmo fatto riferimento alla presenza di Vincenzo Ricausi persone di cui parleremo diffusamente oggi esponente di vertice della struttura Gladio avremmo rilevato la sua presenza a Reggio Calabria a distanza di 48 ore dalla Costituzione della Lega Sud Italia presieduta da Giuseppe Schirinzi e al fatto che pochi giorni dopo sarebbe stato ucciso a Roma Renato De Pedis esponente di vertice della banda della Magliana legata allo Iordo questo riferimento è importante perché dalle dichiarazioni di Antonio D'Andrea che sono confluite agli atti del primo processo dell'Andrangheta Strecista si fa riferimento al fatto che questi avesse avuto in carico dal capo dello Iordo Monsignor De Bonis a partecipare come soggetto di vertice del progetto delle leghe meridionali di cui parlerò in dettaglio tra poco se questi sono i riferimenti alla banda della Magliana nel 1975 va però precisato che i collegamenti con la banda della Magliana arriveranno ai giorni nostri io ho presentato un documento signor Procuratore Sì Presidente è un'integrazione che ho qui con me ritengo che anche proprio per soddisfare i principi di economia processuale trattandosi davvero di due pagine che metto subito a disposizione delle difese è il caso diciamo di consentire questo tipo di illustrazione al Commissario Di Stefano però ovviamente mi rimetto alla valutazione della Corte proprio perché saremmo diciamo oltre l'integrazione formalmente già effettuata Procuratore generale che ci sono altre informative? Sì c'è veramente una un'informativa molto sintetica forse non ho oltre due pagine che io ho qui con me quindi potremmo magari sospendere i riferimenti che sta facendo io la do immediatamente alle difese se non ci sono obiezioni cioè si tratta soltanto di attualizzare come ha già precisato i rapporti tra Andrangheta e Banda della Magliana quindi in epoca ben successiva al 1975 quindi in relazione a questa documentazione che esibisce la Procura generale ai fini per poi poter essere utilizzata per le domande perché riferisca su questo e sui documenti ad essere allegata il test poi il Procuratore generale ci preciserà se ne chiede l'acquisizione agli altri o no se le difese vogliono avere un termine e intanto andiamo avanti con l'esame possiamo in realtà illustrarlo anche più avanti vedete come ritenete voi il tempo di leggerla Presidente è certo allora evitiamo di fare questi riferimenti per ora quindi ci torneremo eventualmente va bene intanto andiamo avanti possiamo proseguire andiamo avanti sui temi già ammessi era solo un dato complementare per attualizzare agli anni 2000 la presenza di Nardi no no ma ha fatto bene ad accennarlo però prima di entrare diciamo sull'argomento specifico dobbiamo risolvere una questione procedurale la riunione che è in assoluto più importante rispetto a quelle di cui abbiamo parlato finora è una riunione poco nota diciamo nella bibliografia giudiziaria perché si è fatto sempre riferimento espresso a una riunione importante che sarebbe avvenuta nell'anno 1992 ad Enna tra i soggetti di vertice di Cosa Nostra e altri soggetti di garanzia Dottore Di Stefano a me risulta che la riunione di Enna è del 91 non del 92 no infatti io sto facendo riferimento a quella riservata del 91 ok quindi prima della delle riunioni ufficiali che si sarebbe tenuta ad Enna nel 1992 vi era stata un'altra riunione riservata che avviene nel 1901 nell'agosto del 1991 è un dato che ha un rilevo incommensurabile se non altro perché nell'agosto del 1991 a Reggio Calabria a Campo Calabro ci sarebbe stato l'omicidio del giudice Antonino Scopelliti ma mentre veniva ucciso il giudice Antonino Scopelliti lasciando da parte quelli che sono i contenuti delle indagini che si trovano in itinere era presente per una misura giudiziaria in obbligo di soggiorno Pino Mandalari commercialista palermitano legatissimo a Licio Gelli ed esponente di vertice della massoneria andando a questa riunione che si tenne nell'agosto del del 1991 abbiamo acquisito mi perdoni è in grado di precisare meglio il dato è in grado di precisare meglio io mi scuso ma la mascherina il dato temporale che la riunione di Enna si sia svolta nell'agosto del 91 da che cosa lo viene tratto? sto prendendo il documento allora noi desumiamo l'esistenza di questa riunione attraverso un elaborato relativo all'operazione Quasar che è stato redatto dal maresciallo capo Giuseppe Ciuro in relazione al procedimento penale numero 2566 barra 98 RGNR del dominato sistema criminali questo elaborato la provenienza questo elaborato che è agli atti della direzione investigativa antimafia perché si fa riferimento sono temi già esplorati in primo grado sì di Quasar ne abbiamo già parlato nel primo grado va bene e quindi allora il riferimento da quegli elaborati qual è il periodo della riunione di Enna da quegli elaborati qual è il periodo della riunione di Enna di cui lei sta parlando sì, allora i riferimenti e la sintesi che fa il collega sono quelli di un interrogatorio reso alla DDA di Palermo in data 3 giugno 1996 da Leonardo Messina anche questi sono atti già confluiti nel fascicolo del dibattimento in cui si si parlava della riunione finale fatta a febbraio del 1992 quale atto finale in cui si era deciso di uccidere Giovanni Falcone e avviare definitivamente la strategia della tensione del 1992 all'interno di un più ampio disegno finalizzato alla creazione di uno Stato indipendente del Sud all'interno della separazione dell'Italia in tre Stati in tal modo Cosa Nostra si sarebbe fatta Stato in questo contesto Messina aveva parlato dello stanziamento di una somma di mille miliardi che sarebbe stata concepita dalla massoneria con l'appoggio di potenze straniere faccio un parallelismo con quelle che sono le digrazioni di Antonio D'Andrea quindi uno dei soggetti di vertice di questo progetto che aveva parlato del fatto che esso stesso aveva ricevuto un'offerta come anticipo di 3 miliardi di euro di 3 miliardi di lire al fine di favorire il progetto eversivo e non il progetto diciamo tra virgolette filo istituzionale di separatismo e con riguardo al discorso delle potenze straniere il D'Andrea aveva detto che questa offerta in denaro gli sarebbe stata proposta da un funzionario della Deutsche Bank più avanti scrive Ciurro il progetto consisteva nella futura creazione di un nuovo soggetto politico la Lega Sud o Lega Meridionale che doveva essere una sorta di risposta naturale del Sud alla Lega Nord ma che in realtà era al servizio di Cosa Nostra uno dei protagonisti dell'operazione sarebbe stato Gianfranco Miglio ovvero altebice dell'operazione politica Lega Nord dietro il quale vi sarebbe esorstati Licio Gelli Andreotti e non meglio precisate forze imprenditoriali del Nord interessate alla separazione dell'Italia in più stati dottore di Stefano la interrompo perché questo documento è integralmente acquisito agli atti quindi a mio modo di vedere possiamo davvero soffermarci su alcuni aspetti che a questo punto però diventano due allora primo è se la riunione di Enna finisce nel febbraio del 92 a me interessa capire proprio perché ci torneremo anche in seguito quando inizia primo aspetto quindi l'aspetto lei ha fatto riferimento e anche qui sono dichiarazioni integralmente acquisite perché Leonardo Messina è irreperibile che cosa intende Leonardo Messina nelle dichiarazioni acquisite mi pare ci sia anche uno stenografico della commissione parlamentare antimafia del 4 dicembre 92 che cosa intende Leonardo Messina quando parla di Cosa Nostra queste sono le due risposte di cui ho necessità in questa sede allora quando Leonardo Messina fa riferimento a Cosa Nostra non so se si rileva da questi atti ma ci vado comunque a memoria lui intanto dice espressamente che quando si parla di Cosa Nostra non si fa un distinguo tra quella che è l'Andrangheta è quella che è la mafia siciliana dicendo che si tratta di un'unica struttura anche se differenziata da un punto di vista geografico che comunque ha dei soggetti di vertice che sono gli stessi quindi si tratta tra virgolette di una cosa sola è corretto perfetto vedo che quando la domanda è puntuale lei riesce ora con la stessa precisione dobbiamo precisare alla Corte quando inizia la riunione di Enna allora la prima riunione di Enna avviene espressamente nell'agosto del 1991 da quelle che sono dichiarazioni di Messina io le segnalo che nel corso del giudizio di primo grado più collaboratori di giustizia parlano della riunione di Enna e la fanno iniziare nel mese di giugno del 91 e questo mi pare si ricavi anche dalla sentenza di primo grado d'accordo io non ho questo riferimento ho preso dei frammenti che che ho reberito ci sono tanti atti che io non conosco del primo grado perché non non ho potuto seguire tutto quindi dal documento che lei ha davanti risulta agosto dal documento che io ho davanti di Quasar risulta agosto del 1991 e che poi il 9 agosto ci sarebbe stato l'omicidio di Scopelliti va bene da questo documento volevo però fare una sola precisazione sì in questo documento viene riportato il fatto che Messina avrebbe appreso da da Miciche che era stato deciso di uccidere Falcone da altri contesti investigativi che sono emersi agli atti del processo trattativo di Palermo si fa riferimento al fatto che il piano di volo dello scomparso Giovanni Falcone era un piano di volo assolutamente segreto e che non poteva essere conosciuto a chiunque avendo utilizzato peraltro un aereo di Stato e il collaboratore di giustizia Pietro Riggio aveva fatto riferimento alla possibilità che volo durante qualcuno abbia potuto dare comunicazioni su quella che sarebbe stata diciamo l'evoluzione o comunque chi aveva cognizione della busta riservata con quel piano di volo avrebbe potuto dare suggerimenti o indicazioni su dove Falcone sarebbe atterrato quindi restringendo la possibilità che poche persone potessero essere a conoscenza di questo evento non è una considerazione banale se non altro perché da altri atti di inchiesta che si trovano agli atti delle relazioni di Genchi emerge che i codici necessari per la per la clonazione o per la iniziativa inizializzazione dei telefoni utilizzati per la strage questi codici si trovassero all'interno di un'agendina sequestrata nel covo di via Ughetti se non ricordo male dove si trovava la titante Nino Gioe questa argentina era un'agendina della Camera dei Deputati quindi un'agendina molto particolare che non si trova facilmente da buffetti o negli altri nelle altre cartolerie e gli stessi codici sarebbero stati poi rinvenuti su un computer di un ex appartenente alla Guardia di Finanza Luigi mi pare che si chiami Stendardo al momento di perquisizione Stendardo era una persona che lavorava per RTL il cui proprietario è originario del Bibonese da altre approfondimenti ma sul tema non posso andare oltre questo riferimento sull'esistenza di un piano di volo riservato e sulla possibilità che solo poche persone potessero sapere di questo attentato a Falcone emerge ulteriormente e viene fatto ulteriormente riferimento al personale che all'epoca sarebbe stato impiegato nella struttura Gladio e da lì emergono una serie di collegamenti diversi con altri soggetti ma ripeto non posso andare oltre e in modo particolare al al suicidio del colonnello Ferraro di cui ha parlato la volta scorsa ma anche al suicidio di Sergio Castellari di Gabriele Cagliari e di Raul Gardini con questo chiudo il successivo summit ci eravamo fermati al summit dell'estate del 1991 poi seguito da quello del febbraio del 1992 ma sempre nel 1991 nel mese di settembre ci sarebbe stato un ulteriore summit questa volta a Polsi dove sarebbero stati presi in considerazione due elementi di riferimento il primo la prima parte attuativa riguardava l'eliminazione di esponenti dello Stato la seconda parte attuativa riguardava quella che era la strategia della tensione da attuare avevo già detto in precedenza che a questo a questa riunione sarebbero stati presenti l'ex onorevole Amedeo Matacena l'avvocato Giovanni Di Stefano esponente soggetto fiduciario del leader jugoslavo Milosevic il riferimento a Matacena avevo detto nella precedenza che ha particolare significatività dal momento in cui Matacena successivamente farà un'interrogazione parlamentare in relazione ai sequesti di persona nel momento in cui il suo partito sarebbe andato in collisione con la Lega Nord avevo anche riferito nella precedente deposizione della singolarità del sequestro di Roberta Chilini in un momento in cui si era deciso di sospendere i sequesti di persona è avvenuto in un momento di particolare importanza politica con le elezioni amministrative a Brescia seguite poi dalle elezioni politiche che avrebbe portato la Lega a quarto partito politico italiano dovrei aver concluso signor procuratore quelli che erano i quesiti su tutte le varie e risulta così e allora proseguiamo con l'illustrazione dei temi che lei già ha introdotto la volta scorsa sì a questo punto si può accendere credo sì un attimo adesso la accendo allora avevo spiegato in modo molto sintetico che cosa significava Gladio e struttura stay behind nel contesto che noi stiamo attenzionando cercherò di far comprendere un pochettino in modo più particolareggiato di cosa si sta trattando per comprendere quella che è l'evoluzione geopolitica e strategica con determinati strumenti che sono stati utilizzati dai due soggetti che notoriamente lo stiamo vedendo stamattina si trovano in contrapposizione nello scacchiere geopolitico mondiale il primo elemento è la conferenza di Tehran del 1943 quando si incontrarono i tre grandi Stalin Roosevelt e Churchill seguita nel 1945 dall'accordo di Potsdam in questo contesto vi sarebbe stata una suddivisione della Germania secondo una linea che era quella la linea Oderneitz per cercare di delimitare ciò che sarebbe stato ad est e ciò che sarebbe stato ad ovest sta di fatto che questi accordi di Potsdam durarono pochissimo tant'è che nel 1947 storia ci ricorda che sarebbe iniziata la guerra fredda con la creazione virtuale di una cosiddetta cortina di ferro l'anno successivo ci sarebbe stato il primo momento di criticità dei due soggetti politici in contrapposizione con l'assedio a Berlino determinato dalle potenze dell'est che volevano evitare che ci potessero essere flussi da una parte all'altra delle due città l'anno successivo si sarebbe ufficialmente creato un accordo definito poi NATO organizzazione del trattato atlantico del nord all'interno di questo ombrello avrebbero partecipato una serie di stati filo statunitensi che venivano definiti dell'Europa occidentale da un punto di vista geografico ma immediatamente dopo nel 1951 sarebbe nato un protocollo ufficiale ma altrettanto segreto tra gli apparati dell'intelligence americana e il nostro stato un protocollo che si sarebbe chiamato stay behind cercherò di poi leggere soltanto dei frammenti degli atti delle commissioni parlamentari sul tema o del Copasir dove ci sono una serie di frammenti che sono di particolare importanza in questo contesto quindi dopo il 1951 si arriva al 1956 quando una parte del blocco sovietico comincerà ad avere delle frizioni con la rivoluzione antisovietica ungherese del 1956 nel 1960 Nikita Khrushchev che caso vuole era ucraino in occasione di una riunione alla Nato disse Presidente richiami l'ordine quelle che a piedi dell'imperialismo americano Khrushchev fu comunque la persona che cercò di avviare un processo di destalinizzazione e fu promotore della cosiddetta coesistenza pacifica con gli Stati Uniti e l'anno successivo però nel 1961 approvò la costruzione di un muro il muro di Berlino per evitare la libera circolazione verso la Germania dell'Ovest due anni dopo abbiamo rilevato attraverso una fonte pubblica che è l'archivio storico grossetano dei documenti riguardanti una corrispondenza epistolare intercorsa tra due soggetti di vertice dell'allora Sifar Allavena e Rocchi i quali parlavano delle idee e soluzioni per poter contrastare possibili intromissioni negli Stati occidentali di elementi del patto di Vazzavia attraverso operazioni che potevano essere anche operazioni di sabotaggio e terrorismo siamo arrivati agli anni 80 nel 1983 vi sarebbe stata la dichiarazione sorenna dell'Unione Europea e il 9 novembre del 1989 l'ufficialità del crollo del muro di Berlino che è il momento di particolare importanza nel contesto che noi stiamo indagando e nel maggio del 1990 il Consiglio europeo di Dublino avviò la prima la prima conferenza con il cosiddetto che avrebbe portato di lì a poco al trattato di Maastricht di due anni dopo ma cosa accadde immediatamente dopo la caduta del muro del novembre del 1989 quello che riporto è contenuto negli atti della Commissione parlamentare del 1992 che poi illustrerò un attimo meglio il 2 agosto del 1990 nel corso di una saluta alla Camera dei Deputati dedicata alla strage sulla stazione di Bologna il Presidente del Consiglio Andreotti accettò un ordine del giorno con il quale si impegnava il Governo a informare il Parlamento entro 60 giorni all'esistenza alle caratteristiche e alla finalità di una struttura parallele occulta che avrebbe operato all'interno del nostro servizio segreto militare con finalità di condizionamento della vita politica del Paese il giorno successivo 3 agosto il Presidente del Consiglio fu ascoltato dalla Commissione parlamentare e nel confermare l'impegno assunto alla Camera dichiarò mi riservo di presentare alla Commissione Senato della Repubblica decima registratura una relazione molto precisa che ho pregato lo Stato Maggiore di predisporre si tratta di quelle attività che sul modello Nato erano state messe in atto per l'ipotesi di un attacco e di un'occupazione dell'Italia o di alcune regioni italiane sulla base di quanto mi è stato riferito dai servizi tale attività sono proseguite fino al 1972 dopodiché si è ritenuto che non fosse più bisogno sia sul problema in generale sia sullo specifico accertamento fatto in occasione dell'inchiesta sulla strage di Peteano da parte del giudice Casson fornirò alla Commissione tutta la documentazione necessaria quindi si fa riferimento a un'esistenza di una struttura fino al 1972 L'8 agosto del 1990 il direttore del Sismi Fulvio Martini emanò una circolare con la quale indirizzava l'organizzazione Gradio ad effettuare attività di informazione nella lotta della droga in realtà dalla documentazione che noi abbiamo acquisito e dagli approfondimenti che abbiamo fatto anche attraverso acquisizioni testimoniali la data di riferimento di questa riconversione per fini informativi della struttura Gradio che non avrebbe riguardato soltanto la droga ma anche il terrorismo e la criminale organizzata sarebbe avvenuta a marzo del 1987 qualche tempo dopo il 9 ottobre del 1990 venne rinvenuto in via Montenevoso a Milano dietro un cartongesso venne rinvenuto della documentazione dove vi erano anche degli elenchi riguardanti Gradio e denominati moronomi e moroelenchi avevo detto nella precedente deposizione che si trattava di alcuni approfondimenti che sarebbero stati trattati soltanto qualche giorno dopo da un ufficio della Polizia Giudiziaria di Roma e che quindi singolarmente si trovavano in quel doppio fondo quindi siamo di ritenere che potessero essere stati inseriti lì ad arte è stato di fatto che dieci giorni dopo questi fatti il 18 ottobre il Presidente del Consiglio inviò alla Commissione il documento di cui si era parlato intitolato il cosiddetto SID Parallelo il Classo Gradio il 24 ottobre successivo Andreotti alla Camera dei Deputati avrebbe ufficialmente dichiarato dell'esistenza di questa stay behind fornendo un elenco di 662 nomi due giorni tre giorni dopo il 27 novembre del 1990 il Presidente del Consiglio decretò lo scioglimento di questa struttura e il 26 febbraio del 1991 non rinnovò l'incarico all'ammiraglio Martini interrompendo il rapporto prima ancora di aver nominato il successore e quando successivamente mise il generale inserirli nelle condizioni di aver lasciato il servizio negandogli la promozione al grado superiore sto riportando una parte di quel contenuto della relazione tra il 1990 e il 1991 parallelamente vi sarebbe stata la nascita delle leghe di cui abbiamo parlato e nel maggio del 1991 quindi immediatamente dopo la la rimozione di di Martini e dopo le iniziative che furono assunte dal del Presidente del Consiglio Andreonti venne nominato al Cesis Francesco Paolo Fulci che a sua volta si fece supportare da un generale in quiescenza Nicola Russo spiegherò per quale motivo si ritenne di nominare un soggetto come Fulci il 9 dicembre del 1991 avrebbe avuto inizio il Consiglio Europeo che avrebbe portato al cosiddetto Trattato di Maastricht nel momento in cui ad aprile del 1993 finirà il mandato di Francesco Paolo Fulci da lì a un mese sarebbe inizia delle stragi con quelle del primo attentato di maggio a Firenze adesso è necessario che io spieghi chi era Fulci molto sommariamente e quali erano gli incarichi che venivano conferiti all'interno del CESIS intanto Fulci era una persona che aveva svolto una carriera come ambasciatore quindi aveva un incarico che non era un incarico di tipo burocratico istituzionale tradizionale e nel periodo immediatamente antecedente al conferimento di incarico presso il CESIS aveva lavorato lungamente presso la Nato assieme al generale che avrebbe portato con lui quindi avrebbe lavorato presso la struttura che era più vicina all'esigenza di cercare di ovattare o chiarire quelle che erano le situazioni che riguardavano le strutture stay behind però la nomina di Fulcio nomina assolutamente sui generis perché prima di lui e dopo di lui tutti quelli che hanno assunto incarico presso il CESIS sono sempre stati soggetti istituzionali nel senso di istituzionali soggetti legati o al Ministero dell'Interno o al Ministero della Difesa e quali soggetti di vertice Napoletano tra il 77 e il 78 era un prefetto Pelosi tra il 78 e l'81 era un prefetto Sparano tra l'81 e l'87 era un prefetto Enrichiero 87 e l'91 era un generale poi ci sarà l'ambasciatore Paolo Fulci 1993 e 1994 Tavormina un generale 94 e 96 Pierantoni un prefetto 96 2001 Berardino un prefetto 2001 2003 Masone un prefetto 2003 2006 Del Mese un prefetto 2006 2007 Cucchi un generale quindi è un caso assolutamente strano è stata chiarita dal prefetto Marcello Fulvi che all'epoca era stato dirigente della DICOS quando ci fu la questione riguardante gli elenchi di falange armata che anche lui si è posto il problema del come mai una persona che non faceva parte dei ruoli solitamente che parlavano il burocratese dell'istituzionale fosse stato messo lì sta facendo riferimento a dichiarazioni alle dichiarazioni di Marcello Fulvi che sono state rese nel primo grado di questo processo benissimo allora diciamo come indicazione metodologica ogni volta che richiama dichiarazioni ci dica dove le prende in modo tale da aver subito questo riferimento si chiedo scusa nel momento in cui l'ammiraglio Fulvio Martini venne allontanato dal dal servizio vi sarebbe stato poi tra il 92 e il 93 l'alternanza alla presidenza del consiglio tra Giulio Andreotti e Giuliana Amato l'ammiraglio Martini sarebbe diventato poi con il nuovo presidente del consiglio un collaboratore della nuova presidenza del consiglio Amato vorrei adesso fare un minimo richiamo a quello che è il contenuto del documento 23 numero 51 decima legislatura della commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione responsabile e le stragi avente ad oggetto relazione sull'inchiesta condotta sulle vicende connesse all'operazione Gladio approvata dalla commissione tra il 14 e il 15 aprile 1932 è un documento pubblico che noi abbiamo acquisito dal sito ufficiale dell'archivio storico del senato preliminarmente in questo documento si fa riferimento si fa riferimento a quella che è la nascita ufficiale di una struttura denominata Goss che sarebbe avvenuta tra il 1985 e il 1987 in questo documento si farà riferimento a una struttura all'interno di Gladio suddivisa su tre livelli un livello verde un livello giallo e un livello rosso è una suddivisione che non ha assolutamente attinenza con quella che è la ricostruzione che invece farà in modo riservato in altri atti il professor De Lutis individuando all'interno di un nucleo centrale rosso la falange armata e all'interno di questo nucleo 15 elementi del sismi e 15 elementi del nucleo controllo e sicurezza di Forte Braschi qui in questo documento si fa poi riferimento a un dato di particolare l'ilievo che vi leggo sto leggendo la pagina 29 della relazione quando l'11 agosto del 1988 fu emanata una nuova direttiva di base sulla guerra non ortodossa le caratteristiche del GOS furono così definite dovevano avere unità composte da quattro elementi provenienti da corpi speciali delle forze armate specificamente addestrati per operazioni da compiersi nell'ambito delle attività connesse alla guerra non ortodossa successivamente il 10 aprile 1990 il capo di stato maggiore del sismi generale inzerilli nel presentare le linee di riorganizzazione della settima divisione propose di eliminare dall'ambito di Gladio le reti sabotaggio e guerriglia e di potenziare le reti informazioni ed infiltrazione e sfiltrazione tali modifiche avrebbero dovuto rendere l'organizzazione maggiormente funzionante alle attività del servizio in tal senso si proponeva anche di incrementare la liquida operativa finalizzata ad attività particolari GOS inquadrata nell'ambito della divisione ma le dirette dipendenze del direttore del servizio cosa è necessario mettere in evidenzia la direttiva emanata dal direttore del sismi sulle linee di riorganizzazione della settima divisione avviene il 10 aprile del 1990 io avevo spiegato che noi abbiamo utilizzato un metodo scientifico di analisi utilizzando quello che era il criterio anche della barra del tempo partendo dalla barra del tempo il giorno successivo il 10 aprile vi sarebbe stato l'omicidio dell'operatore carcerario Umberto Mormile rivendicato poi dalla sigla fallangermata riportare l'azione in conclusione da documenti esaminati appare che nella prima metà degli anni 80 per iniziativa del suo direttore Inzerilli la settima divisione venne ristrutturata secondo un criterio che prevedeva sia il ridimensionamento dell'organizzazione Gladio e la sua riconversione a fini informativi sia la costituzione di una sezione operativa formata da elementi interno al servizio altamente addestrati veniva così attuata quella trasformazione di Gladio all'insaputa degli aderenti cui si era posta man mano fin dagli inizi degli 80 presentendo l'attività informativa come un semplice addestramento al fine di prevenire il possibile rifiuto da parte degli esterni a prestare la propria opera come fonti del servizio nella stessa ignoranza furono tenuti anche coloro che venivano arruolati per il GOS o nucleo K reclutati in prevalenza tra appartenenti ai tre corpi speciali delle forze armate e inseriti nella struttura Gladio in modo ellittico ma in questo documento alla pagina 40 è precisato il tentativo abbastanza scoperto che oggi viene fatto di racchiudere Gladio solo nella sua fase iniziale per poter giustificare quella struttura occulta come un atto di patriottismo e di eroismo non può essere consentito e così pure gli arruolamenti postumi e i riconoscimenti elargiti con abbondanza non vi è alcuna giustificazione per Gladio né all'inizio né alla fine vi è invece un accrescimento della sua pericolosità e della sua illegittimità con il passare degli anni con tutto ciò che è accaduto negli anni torbidi della nostra storia recente non tutto ciò che è accaduto negli anni torbidi della nostra storia recente va debitato a Gladio ma Gladio è stato una componente di quella strategia che immettendo nel sistema elementi di tensione ha giustificato la necessità di opportuni interventi stabilizzatori anche la frase successiva a questo punto alla magistratura aspetta di individuare quali di questi interventi abbiano avuto rilevanza penale un'altra cosa che voglio vorre in evidenza è sempre un atto non più coperto o forse mai stato coperto che è la relazione della dodicesima legislatura documento 34 numero 1 avente d'oggetto primo rapporto sul sistema di informazione e sicurezza che è stato predisposto dal comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza per il segreto di stato Presidente sono documenti di cui chiederemo l'acquisizione ovviamente il copasir prego è un documento ricco ma mi limiterò soltanto a illustrare quattro punti al punto 34 si parla di episodi di depistaggio nello specifico a un certo punto viene indicato al tentativo di far ricadere su gruppi di sinistra il grave attentato avvenuto nell'aprile del 1974 in danno delle scuole slovene di Trieste commesso invece da elementi di ordine nuovo provenienti anche da Milano e all'effettuazione a Reggio Calabria all'inizio degli anni 70 di un traffico di timers elettrodici ed esplosivi con la copertura di ufficiali dell'esercito riporto ancora un altro passaggio che è richiamato al punto 44 della relazione i documenti sulla settima divisione su Gladio il disordine degli archivi e le ipotesi di manipolazione il documento dice in più riferimenti che vi sono state manipolazioni addirittura parla di saccheggio della documentazione contenuta nel fascicolo del noto estremista di destra Enzo Santini Enzo Dantini a un certo punto dice la relazione recentemente in data 11 febbraio 1995 l'autorità giudiziaria di Roma nell'ambito dei procedimenti penali a carico di Invernizzi Gian Antonio ed altri per i delitti relativi a soppressione continuata di documenti attinenti alla sicurezza dello Stato e a carico di Inzerilli Paolo e altri per i delitti di cospirazione politica mediante associazione bandarmata e altra tutti fatti connessi con la vicenda Gladio ha disposto gli arresti domiciliari nei confronti dell'ex direttore della prima divisione del Sismi colonnello Bartolomeo Lombardo attualmente in servizio presso l'organismo Il provvedimento è da porre in relazione ad un insieme di accertamenti condotti dal magistrato su atti richiesti in esibizione al Sismi riguardanti la soppressione avvenuta alla fine del luglio 1990 di documenti concernenti l'addestramento ricevuto da personale civile militare nella base di Gladio di Alghero nonché altri atti inerenti ad interrogazioni effettuate dal Sismi sul CED del Ministero dell'Interno relative nominativi collegati alla struttura Gladio ma non indicati nell'elenco comunicato al CESIS alla Presidenza del Consiglio dell'autorità giudiziaria il 21 febbraio il 21 febbraio scorso il direttore del Sismi ha riferito in esito specifica richiesta del Comitato che nei confronti del Colonello Lombardo è stata adottata la sospensione cautelare obbligatoria del servizio ai sensi delle disposizioni vigenti quest'ultimo episodio fornisce anche ulteriori elementi a sostegno dell'ipotesi che i nomi dei gladiatori ufficialmente comunicati siano solo o in parte e presumibilmente la meno importante e significativa della liquida del personale inserito nella struttura gladio inoltre esso rileva interrogativi seri perché mostra ancora oggi una continuità di atteggiamenti e all'interno del Sismi tuttora uno scasso impegno a favorire l'accertamento della verità grazie a tutti poi si fa riferimento a quella che è l'esistenza di soggetti fittizi all'interno di quell'elenco dei 622 nomi riporta la commissione nel comitato nell'elenco dei 622 componenti di gladio figurano 45 elementi in realtà deceduti da tempo come annatato sul registro e sui fascicoli relativi i giudici peraltro hanno accertato che altri 25 soggetti erano deceduti senza che di ciò figurasse alcuna notazione o memorizzazione sulla documentazione di modo che in buona sostanza secondo il Sismi essi erano in vita e pronti ad essere utilizzati i riferimenti sono tanti ma io credo sia sufficiente questa illustrazione per introdurre gli altri temi un'esercizio un'esercizio Grazie. Il comandante generale Federici dell'Armeni Carabinieri è al capo della polizia, il prefetto Parisi. Cerco di essere più precisi e consegnò due elenchi, uno di 13 nomi al capo della polizia, uno di 16 nomi al generale Federici. Faccio un'altra precisazione. All'interno di questi elenchi, li riporto così avete una visione di cosa si sta trattando. Va bene, ne prendiamo atto verbale. Grazie. Gli elenchi di cui si sta trattando sono due. Uno comprensivo di 13 nomi, uno comprensivo di 16 nomi. Ne avevamo parlato la volta scorsa facendo riferimento a uno dei componenti di questo elenco che era presente con Vincenzo Ricausi il giorno in cui è stato ucciso. Conti Giulio o Giulivo. All'interno di questi elenchi è presente al vertice una persona, chiamata nel primo elenco Masina Luigi, nel secondo elenco colonnello Masina Luigi. Detto soggetto dalla documentazione che è stata acquisita non risulta, tra virgolette, censito tra i componenti del cosiddetto GOS, seppur persona all'interno della struttura del sismi. Però viene rilevato che lo stesso fosse stato incaricato a svolgere l'attività di ufficiale di collegamento con l'Alto Commissario Antimafia. Nella precedenza udienza avevo fatto riferimento al fatto che il Commissario Antimafia era stato incaricato a fare da tradunione per l'attività informativa in relazione all'attività di acquisizione di notizie relative alla criminalità organizzata. Ne parlerò più compiutamente avanti facendo riferimento a incarichi che sarebbero stati conferiti a uno dei gladiatori che avevano competenza a Reggio Calabria. Russo Letterio, gran maestro della loggia Minolfi di Messina, legato da vincoli parentela al tenente colonnello Fornaro, che era uno dei due soggetti che hanno gestito il centro scorpione CAS di Trapani, di cui parlerò meglio dopo. Quindi questi sono i due elenchi. Torniamo adesso alle altre slide. Il 12 agosto del 1993, quindi immediatamente dopo le bombe del 28 luglio, viene dato un appunto riservatissimo all'attenzione del Presidente del Consiglio, a firma congiunta dal Prefetto Parisi e dal Generale Federici. Le fonti di apprendimento di questo documento sono gli atti della Direzione Nazionale Antimafia che sono confluiti al fascicolo e di cui il mio ufficio è stato destinatario di delega, come ho indicato in premessa alla deposizione del giorno 17. Viene indicato. Per doverosa conoscenza della signoria vostra, si informa che l'Ambasciatore Fulci ha riferito, in distinte circostanze, al Capo della Polizia e al Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, che sussisterebbero con relazioni... Possiamo allargare la slide perché credo... Prego? Se allarghiamo la slide, facendola tutto schermo, forse si vede meglio. Ah, non è la mia presentazione. Va meglio così? Sì, ok. Per doverosa conoscenza della signoria vostra, si informa che l'Ambasciatore Fulci ha riferito, in distinte circostanze, al Capo della Polizia e al Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, che sussisterebbero con relazioni tra appartenenti e o appartenuti al sismi, di cui ha fornito da luni nominativi, e la cosiddetta falange armata, che a sua volta sarebbe in posizione di contiguità rispetto a Gladio. Ad assedita conferma di tale ipotesi, avrebbe rilevanza la singolare coincidenza tra le località di origine delle rivendicazioni e l'ubbligazione dei centri del sismi. Un ulteriore elemento di conferma risiederebbe, sempre a suo dire, nel fatto che il sismi, in conformità ai compiti istituzionali, a motivo di contatti con l'ambiente carcerario, oggetto questo di particolare interesse per la cosiddetta falange armata. Personaggi di spicco in questa pretesa organizzazione sarebbero taluni componenti di rilievo del vecchio sismi. Nelle menzionate circostanze, l'Ambasciatore ha raccomandato di conservare la nominato. In successivi e recenti contatti telefonici con il Prefetto Vincenzo Parisi e con il Generale Luigi Federici, il diplomatico ha affermato di essere frutto di mera valutazione personale l'ipotesi che componenti di rilievo del vecchio sismi potessero far parte della falange armata e ne avessero contezza. Ha ribadito che i nomi precedentemente comunicati non erano importanti, se non per iniziare da loro un generico accertamento, ovvero per dare avvio ad attività di vigilanza nei loro confronti. Ha poi precisato, allorquanto gli è stato chiarito, che la vicenda sarebbe stata comunque riferita alla competente autorità giudiziaria, che egli, in buona sostanza, ha avanzato dubbi che i vertici del sismi, gestione Martini, possano far parte o essere al corrente dell'organizzazione falange armata, coincidendo i centrisismi con le località di provenienza delle rivendicazioni da parte della falange armata. Pur non avendo ravvisato nelle informazioni raccolto alcun elemento indiziario, stante la delicatezza della materia, è stata inviata informativa specifica alla Procura della Repubblica di Roma, raccomandando nel contempo l'estrema riservatezza del caso. Quindi si è partiti da questa valutazione del segretario generale del CESIS, da ulteriori acquisizioni che noi abbiamo effettuato, anche attraverso l'acquisizione di testimonianze da parte di soggetti interessati. Qui lo indico esclusivamente, non per riportare il derelato, ma soltanto per spiegare che ciò che abbiamo acquisito è servito per corroborare e riscontrare ciò che noi stavamo già approfondendo, che in buona sostanza non si sarebbe trattato di una mera valutazione dell'ambasciatore Fulci, ma di un'attività di analisi che sarebbe stata effettuata da personale del suo entourage, predisponendo due distinte mappe, dove erano state localizzate le telefonate della falange, mettendole in raffronto con l'esistenza di coincidenti strutture del sismi. Queste indicazioni sono state offerte dal suo collaboratore più diretto, che era il generale Nicola Russo. Che cosa succede? Immediatamente dopo questi elenchi vengono inviati al Servizio Centrale Antiterrorismo della Polizia di Stato, che avvia un'attività di analisi a tappeto. La base di partenza è stata quella di prendere in esame i 16 nominativi e interrogarli su quelli che sono i sistemi ordiniari di contenitori di dati presenti sugli applicativi CED del Ministero dell'Interno. E tra questi in modo particolare quello che è il vecchio archivio Alga, che contiene le schede alloggiate presso le strutture alberghiere. si tratta e si trattava di un elenco di un archivio assolutamente parziale. Ai sensi del testo unico della legge pubblica di sicurezza, le strutture alberghiere sono tenute a redigere quotidianamente delle schede, cosiddette schede alloggiate. Queste schede devono essere inviate all'ufficio di polizia, che ha possibilità di verificare se dentro quell'albergo ad esempio c'è un soggetto ricercato e quindi automaticamente viene fatto questo inserimento di queste schede e automaticamente il sistema dà l'alert nel momento in cui all'interno di quell'inserimento c'è un soggetto che deve essere oggetto di monitoraggio di polizia. Ho detto che però è parziale, perché non sempre tutte le schede vengono inserite, ma vengono inserite al campione, quindi ciò che è stato riscontrato è soltanto un riscontro al campione, così come è avvenuto nel 1990 quando si è parlato di ricausi a Reggio Calabria. Dall'inserimento che è stato fatto dei 16 soggetti monitorando tutti tutti gli spostamenti nelle varie strutture ricettive italiane nel periodo di interesse, è stato possibile vedere quante altre persone si trovavano in quelle stesse strutture nello stesso periodo. Ovviamente stiamo parlando di un dato non certo, nel senso che c'erano quelle persone ma non è detto che non c'erano e potessero essere altre. Quindi sono state inserite quelle schede alloggiate e da quelle schede alloggiate è stato possibile effettuare questo approfondimento. Quindi più che è un dato non certo, diciamo, è un dato non completo. È un dato certo ma non completo, che sicuramente può essere integrato per abbondanza e non al contrario. Attraverso una mirata interrogazione al CED, scrive il relatore di quel documento, finalizzata all'acquisizione di elenchi degli alloggiati presenti in quelle strutture ricettive, dove solitamente hanno soggiornato in passato i personaggi in questione, è stato possibile individuare altre 5 persone presumibilmente appartenenti al noto organismo. Riporto soltanto quello che per noi è di maggiore rilievo. Uno di questi 5 era Licausi Vincenzo, nato a Partanna. A seguito dell'interrogazione del sistema informativo dell'anagrafe tributa ha risultato essere dipendente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Agli atti di questo ufficio figura avere una richiesta di passaporto di servizio relativo all'anno 1974, dalla quale si evince che all'epoca faceva parte del Servizio Informazione della Difesa e consueti rinnovi di porto d'armi relativi al periodo 82-92, la cui documentazione trovasi presso questa serriteria di sicurezza. Il predetto risulta inoltre essere stato oggetto di appunto della questura di Trapani nel settembre del 1992. Vi invito a fare bene attenzione al dato che sto mettendo in correlazione, perché si sta spiegando che nel settembre del 1992 c'è un dato che viene oggettivamente documentato da un ufficio di polizia. Cosa succede? Nel settembre del 1992, riguardante l'esistenza in quella provincia di un'organizzazione denominata Scorpione, a seguito degli accertamenti svolti dalla Digos presso la Procura della Repubblica Trapanese, è stata confermata l'effettiva esistenza di un centro di addestramento denominato Scorpione, con la sede in quella via Virgilio numero 123. Responsabile del suddetto centro è risultato essere il Licausi Vincenzo, all'epoca identificato a mezzo di un documento di riconoscimento rilasciato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Licausi Vincenzo ha preso alloggio nelle sottonodate strutture ricestive. Riportò solo l'ultima, 26 gennaio 1990, presso l'hotel Miramare di Reggio Calabria. Comprendo che sto immettendo una serie di dati è che è complicatissimo riuscire a metterli in relazione con gli altri. Facendo un attimo di ordine, Licausi non è uno dell'elenco dei 16 o dei 15, però dagli incroci che vengono fatti risulta essere un soggetto legato a questo gruppo dei 15. ma addirittura emerge, non da una voce di bottega o da una nota informativa riservata come una velina di informazione confidenziale, ma da un atto ufficiale della DICOS di Trapani che questi era il capocentro scorpione nell'anno 1992. Ricordo che dagli atti che abbiamo già esaminato il 27 novembre del 1990 Stay Behind era stata sciolta dal Presidente del Consiglio Andreotti e che ufficialmente non avrebbe più dovuto funzionare, ma lo vedremo che in altri atti si fa lo stesso riferimento. Vedremo però poi che tutta la settima divisione del Sismi sarebbe stata praticamente smantellata 48 ore dopo le stragi del 1993 con decorrenza 1 agosto 1993. Il giorno successivo, 2 agosto del 1993, Vincenzo Licausi sarebbe stato inviato in lunga missione in Somalia dove poi sarebbe morto nel novembre del 1993. Prima, nella precedente posizione, avevo fatto riferimento a un concetto che era quello della teoria degli opposti estremismi e ho fatto una serie di esempi. Un altro esempio ci è stato offerto quando prima ho letto quello stralcio della Commissione parlamentare sulle stragi in cui si faceva riferimenti a dei pistaggi dove un attentato effettuato da gruppi di estrema destra era stato pilotato investigativamente verso ambienti dell'estrema sinistra. Un altro esempio è quello delle indagini sulla strage di Piazza Fontana che in un primo momento furono indirizzate verso l'anarchico Pietro Valpreta per poi invece concentrarsi su Franco Freda e Giovanni Ventura la cui partecipazione è stata accertata seppure per questioni legate alla procedura e al principio del nembissinitem non possono essere stati condannati. Un altro concetto che però rientra in quelle che sono le logiche della scienza e della politica è il concetto dei pretoriani. Nella letteratura si fa riferimento a tre concetti di pretoriani o di nuovi pretoriani quelli moderatori quelli guardiani e quelli governanti. I pretoriani moderati esercitano un potere di veto su un ampio ventaglio di decisioni governative e dispute politiche senza però assumere essi stessi il controllo del governo. I pretoriani guardiani ricoprono ruoli di decision making con obiettivi di ordine, conservazione e razionalizzazione economica. I pretoriani governanti sono in grado non solo di controllare il governo ma anche di nominare regime con importanti strutture di mobilizzazione. Faccio questa riflessione per introdurre quello che sarebbe avvenuto nel 1963 dopo una serie di eventi che a livello geopolitico avrebbero interessato l'ombrello Nato e di cui ho fatto premessa nell'introduzione. Da un documento ho specificato che la fonte di apprendimento è l'Istituto di Storia Grossetana. Idee e suggerimenti per una serie efficiente e globale attività anticomunista in Italia. Questo carteggio è un carteggio epistolare che avviene tra Giovanni Allavena che era capo del reparto D del Sifar e Renzo Rocca capo dell'ufficio REI del Sifar. Rocca poi sarebbe morto suicida qualche tempo dopo in circostanze assolutamente anomale. bisogna creare gruppi di attivisti di giovani di squadre che possono usare tutti i sistemi anche quelli non ortodossi della intimidazione della minaccia del ricatto della lotta in piazza dell'assalto del sabotaggio del terrorismo. avevo fatto riferimento poi a un altro documento che era la sentenza ordinanza numero 18 2001 della corte di assise di appello di Bologna in relazione al processo italicus bis avevo fatto anche riferimento al fatto che il giorno dopo l'attentato a piazza della loggia sarebbe stato rinvenuto a Reggio Calabria nell'abitazione di Cosimo Polimeni in congiunto della famiglia di Stefano un passaporto falso con applicata la fotografia di Bon Giovanni Ivano poi indagato in una serie di procedimenti tra cui quello dell'italicus bis scrivono i giudici di Bologna la falange che disinforma e intimidisce per allontanare i sospetti da Gladio è composta da addetti ai lavori che parlano in gergo tecnico militare vantano spie dappertutto e sono dei professionisti la falange armata non è dunque un'organizzazione terroristica ma un'agenzia di disinformazione gestita dallo stesso servizio segreto militare ovviamente riferimento al circuito sismi settima divisione Gladio è da queste zone da sempre rimaste in ombra che Fulci e Nuclea 16 nomi di sospetti che vengono spediti al capo della polizia e al comandante generale dell'arma da lì abbiamo acquisito altri documenti che si trovano sempre all'interno di quella cartella della direzione nazionale antimafia e antiterrorismo di cui abbiamo avuto conferimento di delega per valutarne e analizzarne il contenuto all'interno di quella cartella si fa riferimento dottore Di Stefano solo una precisazione è evidente che lei sta consultando documenti che sono stati classificati in passato perché questo è segreto ce ne sono di riservatissimi di riservato di segretissimi sono tutti declassificati vero ovviamente tutto ciò che io sto considerando è tutta documentazione che ormai è declassificata ovviamente è rimasta l'indicazione del timbro semplicemente noi abbiamo preso dei documenti di lavoro che provengono dagli attiti della DNA che si trovano presso l'archivio della Procura della Repubblica ma è scontato che si tratti di documenti ormai nodi ma documenti che peraltro di libera divulgazione diciamo così prego di libera divulgazione sì diversi di questi documenti sono peraltro presenti ormai sulle fonti aperte e sono stati messi in rete da componenti delle commissioni o comunque da altri soggetti che hanno studiato la materia va bene prego gli unici documenti di cui non siamo in grado noi di di stabilire se poi siano stati successivamente oggetto di classifica sono quelli che noi abbiamo cristallizzato all'interno dell'archivio di Giuseppe De Lutis ma è un qualcosa che viene a monte quindi noi non sappiamo se poi una parte di quei documenti sia stata successivamente oggetto di classifica quello che noi riscontriamo lo riscontriamo in un archivio pubblico lo acquisiamo e lo prendiamo quindi non escludo che le valutazioni che Giuseppe De Lutis abbia fatto su una componente interna alle istituzioni della Falange Armata possa essere stata poi successivamente oggetto di blindatura con il segreto posso andare avanti? Sì sì di breve lettura poi in sede di contresame non sento nulla avvocato avvocato purtroppo non sentiamo per quanto mi riguarda sono stati di breve lettura Presidente quindi può riferire poi in sede di contresame le nostre valutazioni l'unica cosa chiediamo già il consenso alla procura di estrarre copia della documentazione mancante mi pare fatto abbastanza scontato mi assogio al microfono al microfono avvocato e lo accenda grazie per la difesa Graviano mi assogio a quanto detto dal collega contestabile gli altri difensori hanno qualcosa da rilevare difensori che partecipano il consenso va bene non ci sono posizioni a che riferisca mi pare di aver capito su quella documentazione va bene sospendiamo ora dato che sono due ore sospendiamo diciamo realisticamente facciamo fine all'1.20 e poi riprendiamo va bene va bene se non avete problemi perché a un quarto d'ora venti minuti se ne va in modo che poi proseguiamo è a un orario già no io non so se ci sono esigenze per il test no va bene possiamo poi almeno fino alle 16.30 così andare avanti in modo che se riusciamo a finire poi vediamo è un'esigenza allora per questo grazie ci vediamo all'1.20 1.25 in modo che riprendiamo lo dico anche per i siti sospendiamo fino alle 1.20 va bene e poi andremo avanti fino alle 16.30 d'accordo grazie allora allora intanto diamo atto che Filippone ha rinunziato a partecipare alla prosecuzione dell'udienza alle ore 12.50 infatti abbiamo giusto già il collegamento volevo anche rappresentare che la prossima udienza che era prevista per il 2 marzo no non la possiamo tenere per impegni del consigliere all'altra e quindi andiamo a quella già fissata che è del 16 marzo poi vedremo di recuperare quest'udienza va bene quindi anche per i siti poi vediamo la comunicazione dato che è un collegamento non c'è della revoca dell'udienza del 2 marzo va bene ma a entrambi i siti va bene e allora possiamo proseguire allora c'eravamo fermati all' all'attività di analisi effettuata dal servizio centrale antiterrorismo della polizia di stato che aveva riguardato l'incrocio dell'elenco dei 16 nominativi attraverso le strutture alberghiere e poi da lì l'analisi riguardante tutto ciò che poteva interessare il profilo delle persone che si trovavano in quello stesso contesto ricettivo per vedere se potessero avere attinenza con la pubblica amministrazione presidenza del consiglio dei ministri porto darmi e quanto altro l'analisi a titolo di esempio partendo da partendo da Martinello Paolo che è uno dei componenti di quell'elenco dei 16 dice che dal 25 6 1993 prestolo del gioli di trieste lui si trovava mentre contestualmente erano presenti nella stessa struttura ricettiva Grilli Alberto Balla Mario Greggio Domenico Paolo Ossi Stefano e il giorno successivo Peter Costanzo e Stefanelli Vittorio perché fa questo riferimento allora innanzitutto dice che Grilli Enrico che era presente dal giorno 25 è residente a Livorno ed è un sotto ufficiale in forza presso la brigata paracadutisti Folgore poi dice che Ravaro Piero è residente a Livorno ed è appartenente alle forze armate in servizio presso l'autogruppo Manovra Famiglia Balla Mario è in servizio presso il comando militare zona 20 Greggio Domenico è appartenente alle forze armate in servizio presso il comando battaglione paracadutisti Colmo Schin Paolo Ossi Stefano è appartenente alle forze armate in servizio presso la scuola lievi di Viterbo Peter Costanzo è appartenente alle forze armate in servizio presso il 12 comiliter regione militare Stefanelli Vittorio è in servizio presso l'ufficio di amministrazione personale militare dell'esercito quindi cosa significa mentre uno del gruppo dei 16 si trovava in una struttura alberghiera nello stesso contesto c'erano presenti ben uno due tre quattro cinque sei sette persone tutte appartenenti alle forze armate e diverse delle quali appartenenti alla brigata Folgore tra cui Costanzo Peter che sarebbe stato poi il comandante della scuola militare di paracadutismo il dato che però qui voglio mettere in evidenza riguarda Grilli di Enrico alla fine di questa nota informativa scrive il personale dello SCA nel maggio del 1991 il Grilli è stato indicato da fonte confidenziale quale referente del gruppo Falange Armata la fonte avrebbe altresì riferito che il predetto allorquando rinforza il nono battaglione col Moschin rimase coinvolto in episodi definiti oscuri e mai denunciati le autorità competenti in particolare avrebbe fatto parte di un gruppo di militari che si era costituito all'interno della stessa brigata Folgore che aveva come obiettivo la destabilizzazione dell'ordine democratico ed il conseguente tentativo di colpe il confidente avrebbe inoltre rilevato che farebbero parte della Falange Armata circa 20 persone delle quali 8 formerebbero 4 squadre operative mentre i restanti costituirebbero il fronte logistico informativo i componenti sarebbero addestrati all'uso di armi e uno di essi è esperto di esplosivi FA e acronimo di Falange Armata svolgerebbe saltuare attività addestrativa in campi paramilitari autorizzati al fine di ottenere un alto livello di addestramento alla guerriglia urbana tale attività verrebbe svolta in zona ai confini con la Svizzera i fucili SC70 nella disponibilità del gruppo sarebbero stati asportati dall'armeria del nono battaglione d'assalto col Moschin di Livorno difficile la collocazione politico-ideologica da parte da dare a Falange Armata non essendo possibile considerarla gruppo eversivo nel senso più puro del termine poiché tra loro tra i loro obiettivi non ci sarebbero quelle finalità che caratterizzavano le formazioni dell'estrema destra dello scorso decennio ovvero creare una strategia della tensione e destabilizzare lo Stato Democratico è l'intenzione di questa organizzazione colpire chiunque ritengano responsabili del degrado sociale e politico in cui versa l'Italia ancora riguardo fanno riferimento ancora a pericoli da parte del direttore del quotidiano della Repubblica del giornalista Sanisini della famiglia cristiana bollato come spia del sismi e poi riguarda le perquestità manifestate dalla gente nell'apprendere che uno degli obiettivi dell'organizzazione potesse essere il colonnello Paganini del NOX la fonte ha autorizzato che il fronte logistico informativo è in grado di compiere inchieste approfondite e che non ha difficoltà di sorta nell'indituare gli obiettivi così come le squadre operative non ne hanno per colpirli la fonte definisce il gruppo di falange armata un insieme di soldati addestratissimi e molto capaci sotto il profilo operativo ma niente di più Grilli Enrico noto nell'ambiente di lavoro quale simpatizzante dei partiti di destra è recentemente trasferito a servizi non operativi non per demeriti bensì per sovrere nulla diminuita idoneità fisica ha prestato servizio presso i seguenti uffici 26 765 battaglione sabotatori paracadutisti attuale colmoschino 1 1172 trasferito a Terni presso fabbrica d'armi servizio vettogliamento 1974 e 1984 è riassegnato al quartier generale brigata paracadutisti servizio supporto 1 684 trasferito amministrativamente al 12esimo deposito territoriale Lucca con sede Livorno 22 91 servizio uffici presidiari presso brigata paracadutisti Folgore ancora in in questa segnalazione in questa analisi fatta dallo SCA c'è un altro punto di particolare interesse nell'analizzare le date e le località in cui sono stati identificati più appartenenti al mondo diciamo della brigata Folgore dice a un certo punto la relazione si sarà senz'altro voluto notare che alcune di queste persone salvo che non si siano verificati ripetuti i casi di omonimia hanno alloggiato in alcune strutture ricettive nello stesso periodo tali occasionali circostanze hanno assunto un particolare interesse nel momento in cui sono state ricollegate alla successiva attività intimidatoria peraltro mai concretizzatosi svolta da Falange Armata e sul conto della quale si rimanda alla lettura dell'analisi comparativa elaborata da questa divisione B1 dei contenuti delle telefonate in relazione a fatti rilevanti direttamente o indirettamente richiarati dal 18 al 19 ottobre del 1990 hanno preso alloggio presso l'hotel Euro Residence di Brescia Caporali Marco Morandi Mauro Mazzotta Giuseppe e Lissa Giuseppe il 27 dello stesso mese Falange Armata Carceraria dopo un lungo periodo di silenzio rivendica l'omicidio mormile e preannuncia l'apertura di due fronti di lotta uno interno nel sistema carcerario contro la legge Cozzini e l'altro esterno nelle sezioni politiche finanziarie e giudiziarie il 5 novembre 1990 compare per la prima volta la sigla Falange Armata che ribadendo l'impegno del settore carcerario delegato alle FAC e rivendicando l'omicidio di due professionisti a Catania lamenta la mancata diffusione da parte delle forze di polizia di una cassetta registrata mai rinvenuta asseditamente depositata presso la stazione di Bologna nella quale sarebbero stati contenuti il programma politico militare dell'organizzazione nonché rivelazioni sul delitto Mattarella la strage del 2 agosto 1980 e l'operazione Gladio in quelle circostanze sono state rivolte minance al giudice Pomarici che avrebbe sbagliato due volte a valutare l'operazione di via Montenevoso la rivendicazione pervenuta all'ANSA il 27 10 90 riporta inizio questo anno abbiamo individuato due fronti di lotta armata uno interno e esterno sezione politico giudiziario finanziaria altro interno carceri qui abbiamo individuato 5 operatori educatori che sono operativi e cervelli organizzazione legge cozzini mormile educatore carcere opera è stato giustiziato altri 4 saranno colpiti in momento opportuno educatore zotto la porto azzurro educatore vacirca carcere pavia educatore scalone carcere messina educatore grilli carcere ancona questi educatori politica loro ministero e per ragioni carattere politico sociale domani in bologna avrete comunicato posto cestino rifiuti stazione ferroviaria falange armata carceraria ancora riporta quella nota nei mesi di giugno e luglio del 1991 il senatore libero voltieri presidente della commissione stragi e convinto sostenitore che falange armata costituerebbe una scheggia impazzita dello Stato nonché fortemente critico sulla legittimità dell'organizzazione Gladio è stato oggetto di minacce da parte di falange armata nello stesso periodo minacce di morte sono state rivolte all'ammacciatore Fulci in relazione al suo nuovo incarico di segretario generale del Cesis ufficio tra l'altro noto soprattutto agli addetti ai lavori e questa probabilmente la nuova volta che falange armata con rimarchevole tempismo anticipa un evento la nomina di Fulci che coperta da riservo poteva essere nota solo a persone dell'ambiente nel seguito della nota poi viene fatto riferimento anche a degli aspetti per così dire merceologici delle persone presenti in quelle località quindi prima si è fatto riferimento a quello che era il profile di tipo professionale quindi appartenenti alle forze armata appartenenti a reparti speciali o della brigata Folcore altra analisi che è stata fatta riguardato invece la presenza di professionisti che avevano uno skilling particolare nel settore degli armamenti e delle tecnologie per motivi militari e strategici ad esempio il 16 febbraio del 1980 prende alloggio presso l'hotel Euro Residence di Brescia data vittorio titolare della società data vittorio armi e munizioni data vittorio anche socio unitamente al genero Fragalai Edoardo della società Peroldex oggetto sociale la società e il commercio all'ingrosso di armi da caccia tiro difesa munizioni esplosivi prodotti chimici e di meccanica industriale il primo luglio 91 presso l'albergo Daneo risulta aver preso alloggio Antimi Gianfranco impiegato della società Alcatel Face S.p.a. la cui ragione sociale è apparecchiature componenti materiali elettrici ed elettronici sistemi per l'aiuto della navigazione aeronavale per la difesa per la sicurezza apparecchiature telefoniche radio telefoniche telematiche automazione dal 5 luglio 1994 presso l'hotel Sole di Muggia è presente Borrelli Giuseppe direttore dello stabilimento di Maddaloni dell'Alcatel Face Standard Spa oggetto della società e realizzazione apparecchiature e sistemi per la difesa apparecchiature e sistemi di sicurezza anti sabotaggio quindi in estrema sintesi l'analisi che è stata fatta dal servizio centrale antiterrorismo in primo luogo ci spiega che sì sono 12 sono 16 le persone che sono state segnalate da Fulci ma noi siamo stati in modo di interrelare quei dati e individuare altre persone 5 sicuramente fanno parte di un nucleo più consistente decisamente più vicino a questo nucleo dei 16 e tra questo elenco di 5 persone viene individuato Vincenzo Ricausi poi indicano una serie di altri soggetti che sono tutti soggetti facenti parte di strutture specializzate delle nostre forze armate ma anche la presenza nel corrispondente periodo di soggetti che per la natura dei loro interessi commerciali avrebbero avuto rapporti con il mondo militare quindi armi munizioni armamenti tecnologie strumenti di comunicazione e quanto altro torniamo alle slide allora la costituzione del del cosiddetto GOP GOS che è l'acronimo di gruppo operazioni speciali rega la data del 30 gennaio del 1986 dalla complessiva acquisizione che noi facciamo ci rendiamo conto che comunque personale specializzato che faceva parte di un gruppo ristretto probabilmente con una denominazione diversa rispetto a questa ufficiale del GOS fosse operante già prima se non altro perché già era emerso da altri atti che personale di Gladio era pronto a intervenire nel momento in cui si era parlato nel 1978 della possibile presenza di Moro nella zona del lago della Tuchessa perché parte personale del gruppo del sismi sarebbe intervenuto in occasione della della notovicenda della nave Achille Lauro in occasione del sequestro del generale Dozier quindi sono una serie di elementi che ci indicano questo ma vedremo più avanti nella relazione di analisi fatta da Giuseppe De Rutis come già prima di questa costituzione ufficiale ci fosse un nucleo di personale particolarmente specializzato che operasse spostandosi da una sezione a un'altra per poi fare ritorno sempre alla settima divisione del sismi perché è importante il 30 gennaio del 1986 perché è un fatto successivo a una crisi delle relazioni internazionali che l'Italia avrebbe avuto con gli Stati Uniti nel momento in cui dopo la vicenda dell'Achille Lauro e la cattura dei sequestratori dei terroristi sequestratori il personale dell'intelligence americana avrebbe voluto prendere i sequestratori per portarli negli Stati Uniti ci sarebbe stata presso la base di Sigonella la nota vicenda che nella storia si chiama la crisi di Sigonella dove su disposizione dell'allora presidente del consiglio Bettino Craxi ci sarebbe stato il Niet agli Stati Uniti quindi non consentendo agli Stati Uniti di avvicinarsi al velivolo il che avrebbe generato una sorta di frattura nell'arco di un paio di mesi la settima divisione avrebbe deciso di ufficializzare seppur in modo assolutamente segreto l'esistenza di una di un nucleo operativo speciale per determinate esigenze il documento quindi è del 30 gennaio e ha per oggetto la costituzione di gruppi operazioni speciali viene redatto dal direttore della settima divisione del sismi che all'epoca era Paolo Inzerilli ed è indirizzata al direttore del servizio che era Fulvio Martini nella slide si vede che è scritto a penna soldi 100 milioni per il 1986 è una sigla 12 febbraio io ho riportato in questa slide soltanto alcuni piccoli passaggi della lunga relazione ma per farvi comprendere un minimo di oggettività di quei contenuti i compiti affidati al GOS si inquadrano in diversi compiti di azioni in tempo di pace riguardano lo studio della sperimentazione di tecniche armi materiali equipaggiamenti speciali e l'eventuale concorso alle attività della sezione addestramenti speciali spiegheremo bene cosa sarà questa sezione addestramenti speciali attività operative fate attenzione perché ritorneremo su questo argomento azioni coperte e azioni clandestine in territorio nazionale e non condotte in forma autonoma e o in concorso a supporto delle attività operative condotte da altri organi del servizio nella prima parte della mia deposizione il 17 e ne aveva fatto cenno anche all'introduzione di questo nuovo processo il procuratore generale abbiamo rinvenuto un documento su quella che potrebbe essere un'evoluzione del progetto stay behind dove si faceva per l'appunto riferimento ad un nucleo particolarmente riservato detto NAC nucleo azioni coperte ecco nel documento ufficiale che ritroviamo l'esistenza di questo progetto ma cosa dice più avanti il documento dato per scontato che le fonti di reclutamento siano esclusivamente il nono battaglione paracodisti d'assalto e il com sub risulta ovvio che tutto il personale è già in possesso di nos a livello cts quindi si sta spiegando se il personale fa parte del nono battaglione col moschino o del comando subago e incursori significa che il personale è già dotato di livelli elevati di certificazione di trattazione di sicurezza va aggiunto peraltro che in considerazione dei compiti che i costi potranno essere richiamati a svolgere deve poter essere considerato reclutabile anche personale che risulti non essere uno stinco di santo non mi soffermo ulteriormente sull'interpretazione semantica del termine però vorrei fare un'altra considerazione quando prima ho fatto riferimento a quella relazione a quella lunga relazione del servizio centrale antiterrorismo a un certo punto si faceva riferimento al fatto che Falange Armata svolgerebbe saltuare attività addestrativa in campi paramilitari auto-organizzati al fine di ottenere un alto livello di addestramento alla guerriglia urbana tale attività avrebbe svolta in zone ai confini con la Svizzera ebbene secondo quelle che erano le direttive dell'ufficio di procura noi abbiamo cercato riscontro alle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia che diceva di aver partecipato a questi campi paramilitari assieme ad altri soggetti pregiudicati ne sto parlando quindi faccio riferimento al soggetto come atto di riscontro che io ho fatto rispetto alle sue dichiarazioni si parla di Carmelo Stefano Serpa il quale ha ricostruito in modo assolutamente dettagliato la sua intranietà ad una struttura di tipo paramilitare dove lui sarebbe stato prelevato con autovetture di servizio del del Sismi e addirittura ascoltato anche da personale dell'arma dei carabinieri per recarsi in determinate località dove ci sarebbero stati questi addestramenti facendo una serie di illustrazioni anche abbastanza articolate facendo riferimento alla conoscenza in detto contesto di Pierluigi Concutelli e di Paolo Inzerilli quindi della persona che sarebbe stata poi il direttore della settima divisione ma la cosa che è più importante è che lui indica questa località in San Martino di Castrozza quindi stiamo parlando di una località che è comunque compatibile con quelle che sono le segnalazioni che provengono dall'attività che è stato oggetto di acquisizione e di esplorazione da parte dello SCA ma noi siamo andati oltre perché noi siamo andati alla fonte e abbiamo assunto le dichiarazioni proprio dal soggetto che era interessato da un punto di vista logistico amministrativo ad organizzare le emissioni per conto della settima divisione del Sismi e addirittura di pagare fisicamente le emissioni quindi di provvedere ai rimborsi a piedi lista dei fogli di viaggio delle fatture e tutto ciò che comportava queste emissioni quindi se il signor Procuratore Generale non è contrario riferisco che le acquisizioni sono state fatte dal tenente colonnello Paolo Fornaro e che sono qui da intendersi solo meramente indicative per l'attività di riscontro che è stata effettuata perché senza ombre di dubbio lui ha riferito che queste attività di addestramento venivano fatte esattamente in località San Martino di Castrozza così come diversi anni prima aveva indicato il collaboratore di giustizia Precisiamo a questo punto visto che sono elementi che si traggono da alcune sentenze Serpa a quale evento in Calabria ha assistito e quali non ho sentito dottore Precisiamo a questo punto per far comprendere meglio di quale collaboratore di giustizia stiamo parlando Serpa a quale incontro in Calabria ha assistito e chi erano i soggetti presenti a quell'incontro Sì Allora un attimo che li elenco tutti Ovviamente tratte da dichiarazioni già rese in questo processo Adesso il volo non rilevo mi pare che fosse una delle persone presenti anche a Montalto nel 1969 però non ho qui a portare di mano il documento Quando troverà il dato poi ci torneremo perché va bene nella ricostruzione che ha appena fatto mi pare rilevante Ciccio per favore lo segni Sì sì è segnato L'indice finale L'indice finale Andiamo adesso all'organigramma su una possibile struttura stay behind Questo documento è stato rinvenuto agli atti della nostra articolazione DIA presso la segreteria di sicurezza dove sono custoditi i fascicoli che provenivano dall'alto commissario antimafia In buona sostanza la direzione investigativa antimafia è stata costituita in parte con personale che proveniva dall'alto commissario antimafia e quindi parte di quella documentazione è stata conservata agli atti Ho già spiegato che in altri documenti è stato rilevato che ci fosse uno smosi tra la struttura Gladio e l'alto commissario antimafia e che il colonnello Masina era stato l'ufficiale di collegamento tra il Sismi e l'alto commissario antimafia Spiegherò in dettaglio il contenuto di questo grafico Dagli atti del processo Rostagno è riportato il generale Rosa curava inoltre la predisposizione dei briefing da sottoporre al ministro della difesa al ministro degli esteri capo di stato maggiore della difesa e delle varie forze armate ebbene a domanda del pubblico ministero se negli anni tra il 1980 e il 1989 avesse avuto notizie dallo svolgimento di attività informativa da parte di strutture stay behind per fini interni ha così risposto ricordo senza tuttavia poter essere più preciso per date e contenuti che non molti anni fa giunse una direttiva della presidenza del consiglio al capo del servizio che prescriveva di fornire collaborazione all'alto commissario dottor Sica all'interno di quell'organigramma che ho appena descritto si fa riferimento a una sezione che è da intenderli come SAS sezione attività speciali che dipende direttamente dal direttore del servizio quindi non ha delle compartimentazioni di filtro e da cui dipartono due strutture una che si chiama GOS che è quella struttura il cui primo documento è stato generato a gennaio del 1986 quindi gruppo operazioni speciali e un altro nucleo che si chiama nucleo azioni coperte della cui esistenza abbiamo avuto cognizione attraverso la lettura del documento ufficiale di costituzione dove in tempo di guerra si sarebbero svolte attività di guerriglia e di azioni coperte riporto quella quella slide così mi pare che si parlasse di tempo di pace in tempo di pace chiedo scusa infatti poi è difficile intendere che cosa è pace e cosa può essere allora azioni in tempo di pace come attività operative azioni coperte e azioni clandestine in territorio nazionale e non avevamo detto di aver recuperato all'interno dell'archivio di Giuseppe De Lutis ereditato da Sergio Flamigni un appunto che si trovava all'interno di una articolata attività di analisi che De Lutis aveva fatto su personale appartenente a Gladio all'interno di questo documento e questo appunto che dovrebbe essere manoscritto da De Lutis è indicato documento doc 1985 quindi si fa riferimento a un qualcosa che è databile al 1985 quindi prima alla ufficializzazione della struttura dei GOS che sarebbe stata generale a gennaio del 1986 e si fa riferimento a tre livelli di GL tricolore quindi Gladio tricolore il livello più esterno c'è scritto 622 bianco 622 sarebbe quell'elenco di quei 622 che il 24 ottobre del 1990 il presidente Andreotti avrebbe dislevato al Parlamento poi c'è una parte intermedia con la scritta V quindi si intende verde perché se tricolore si dà per scontato che si parli di verde bianco e rosso e quindi in questo caso è bianco verde e rosso e poi un nucleo centrale spiega meglio e dice in una parte ci sono in un contenitore ci sono i 622 in un altro contenitore ci sono 1290 negativi non arruolati più i positivi che arrivano a 1900 sarebbero intanto 1912 quindi lui approssimativamente fa questa ricognizione perché parla di questi 1290 negativi da altre acquisizioni che abbiamo fatto abbiamo rilevato che rispetto ai 622 degli elenchi ufficiali si trovano all'interno dei fascicoli di Gladio una serie di altri soggetti che sono stati comunque contattati e che sono stati inseriti nella schedatura d'archivio del servizio e quindi dicendo che in questa area intermedia ci sarebbe tutta questa gente da altri documenti si rileverà che comunque anche le persone che non erano ufficialmente nella lista dei 622 avrebbero comunque avuto interesse o comunque sarebbero stati impiegati anche se incidentalmente in attività ma la parte più interessante è l'ultima parte dove lui redige un ulteriore appunto dove mette il cerchio centrale quindi si suppone che sia il cerchio centrale dei quei tre dove scrive sismi spiegando che il cerchio viene alimentato da due gruppi da 15 nel primo gruppo c'è scritto UF CONTR ESIC nel secondo c'è scritto FAL ARM non è difficile interpretare il contenuto di queste di queste due annotazioni la prima in UF CONTR ESIC ufficio controllo e sicurezza di Forte Braschi la seconda FAL ARM in un cerchio bianco un cerchio verde e un cerchio rosso il cerchio bianco indica il numero di 622 corrispondente cioè all'elenco ufficiale che il presidente Giulio Andreotti rese noto in data 24 ottobre al Parlamento il cerchio verde indica i numeri 1290 negativi non arruolati che aggiunto ai positivi arriva a 1900 in realtà sarebbe 1912 dall'attività effettuata in precedenza già documentata con le informative che precede a seguito dell'escussione del generale Paolo Inzerilli coordinatore della struttura gladio uguale direttore della settima divisione del Sismi era stato acquisito un documento contenente un elenco di soggetti che sarebbero stati contattati per future esigenze alla struttura e poi non arruolati quindi noi autonomamente avevamo già acquisito questo elenco di 1290 acquisendolo alla fonte attraverso l'ex direttore dell'ufficio quindi questa escursione è un'escursione che si fa nel corso delle attività di indagine da voi svolte questa è un'attività che facciamo nel corso delle attività svolte ad origine del primo processo che ancora non è ultimato e quindi solo sommariamente stiamo dando al riscontro soltanto per queste che sono le emergenze dall'archivio dell'Utis di quelle che sono una serie di attività di acquisizione e anche testimoniale che abbiamo collazionato il cerchio più interno quello rosso fa riferimento alle seguenti parole abbligate inserire dentro un cerchio con scritto sismi uff contro e si seguita dal numero 15 ancora falarm seguita dal numero 15 è evidente che la prima prefezione rimandi all'ufficio contro le sicurezza mentre la seconda la sigla falange armata al documento di analisi che era stato redatto da De Lutis relativo all'anno 1985 ricordo che in quello schema c'è scritto a sinistra doc 1985 va aggiunto che la parte politica ivi compreso il Presidente del Consiglio d'altre sostanze non avrebbe saputo dell'esistenza di Clario particolare noto solo al Capo di Stato Maggiore della Difesa quindi tutta la parte politica è sempre rimasta all'oscuro almeno fino a quella data dell'esistenza di Clario cosa vuol dire altre risultanze prego cosa vuol dire altre risultanze altre risultanze sono sia le acquisizioni che abbiamo fatto sia il contenuto della relazione della commissione parlamentare d'inchiesta che ho letto nella prima parte di questa deposizione dove espressamente si fa riferimento al fatto che la parte politica non fosse a conoscenza va bene quindi è il documento che ha illustrato in parte prima l'attività riguardante Gladio sulla scorta di accesso disposto dalla procura di Venezia dal dottor Felice Casson avrebbe poi generato un procedimento a carico di Francesco Costiga Fulvio Martini e Paolo Inzerilli riguardante l'esistenza di questa struttura tra le motivazioni di archiviazione di quel provvedimento si faceva riferimento al fatto che tutta l'attività svolta da Stay Behind sarebbe avvenuta con armi sceniche e munizionamento a salve Le risultanze dell'ufficio hanno consentito di verificare il rinvenimento di diversi CAS cioè significa centri di addestramenti speciali di Gladio nel corso degli anni documentando attraverso molteplici testimonianze dirette che la struttura utilizzasse armi da guerre esplosivi armi automatiche e insidiole pistole dotate di silenziatore come la standard HI calibro 022 dette circostanze sempre ribadisco a riscontro di quello che noi abbiamo documentato sono state assolutamente confermate dai soggetti di vertice della struttura e in modo particolare sia dal generale Inzerilli che dal colonnello Fornaro anzi il generale Inzerilli assolutamente ha detto che mai e poi mai sono state utilizzate armi e munizioni sceniche ma esclusivamente armi ed esplosivi attivi tra cui esplosivo C4 ci siamo ci siamo meglio questo riferimento alle armi sceniche da cosa deriva sì il riferimento alle armi sceniche deriva dalla soprattutto cerchiamo ecco di prego cerchiamo anche di spiegare se ovviamente lei è in grado di farlo in questa sede che cos'è un'arma scenica e quali caratteristiche ha soprattutto se può diventare un'arma nel vero senso del termine allora facciamo intanto una serie di distinguo quando si parla di armi lasciando stare da parte le armi attive che poi possono distinguersi in armi comuni e in armi da guerra vi sono delle armi che sono inoffensive semplicemente perché sono a salve quindi utilizzano un munizionamento che ha soltanto una carica di deflagrazione ma non ha un proietto che parte che quindi è in grado di offendere qualcuno e quindi fanno soltanto lo sparo come la pistola che regaliamo ai bambini quando fanno gli sceriffi e delle altre che invece sono assolutamente sceniche che hanno la forma esatta di un'arma ma che sono assolutamente inerti il caso più banale è quello delle armi che vengono utilizzate nelle fiction nei film recente è stato il caso negli Stati Uniti dove un noto attore involontariamente ha colpito una persona durante il set però si tratta di armi che per la loro conformazione possono essere agevolmente essere modificate essere modificate e quindi diventare armi offensive quindi che possono utilizzare del munizionamento tradizionale per le armi comuni da sparo o per le armi da guerra ma addirittura possono essere anche essere modificate nel loro ciclo di funzionamento e quindi passare dal ciclo semiautomatico quindi sparare a colpo singolo e diventare addirittura delle armi automatiche quindi sparare a raffica la considerazione che mi viene posta dal signor procuratore è riferita al fatto che nelle diverse attività che sono state svolte è emerso che alcuni M12 che originariamente devono essere delle armi sceniche negli anni 90 sarebbero state modificate e utilizzate in eventi che possono avere correlazione con i fatti che noi stiamo investigando è sufficiente signor procuratore assolutamente sì ovviamente documenteremo anche questo prego prosegua dalle complessive risultanze il nucleo del gladio avrebbe svolto attività drestativo nella zona di Trento ovvero avrebbero partecipato anche pregiudicati dell'andrangheta in analogia ai campi paramilitari individuati dal vice questore Peri negli anni 70 indagando su Concutelli ho già fatto riferimento a Carmelo Stefano Serpa al fatto che lui abbia riferito di aver conosciuto sia Concutelli che Paolo Inzerilli e abbia parlato dei campi di San Martino di Castrozza Da altre risultanze è emerso che il segretario del CESIS Francesco Paolo Fulci dal momento del suo insendiamento presso un alloggio di servizio messo a disposizione dal servizio militare sarebbe stato oggetto di massicce intercettazioni ambientale e telefonico e ancora che il servizio abbia monitorato i movimenti del Premier che aveva disposto un'inchiesta interna affidata al capo del CESIS sulla struttura Gladio ebbene sempre nel contesto dell'attività di approfondimento che noi abbiamo fatto andando a verificare attraverso testimonianze dei soggetti direttamente a conoscenza dei fatti abbiamo avuto riscontro ulteriore di quelle che erano le nostre presunzioni e di quelle che erano le acquisizioni che già avevamo ottenuto attraverso le deposizioni processuali di Fulci e di altri soggetti in modo particolare dalla testimonianza del suo vice del generale Nicola Russo questi senza ombra di smentita sto parlando sempre di attività che noi abbiamo fatto nel contesto dell'ampia delega che riguarda il presente procedimento il personale dell'ammiraglio Fulci aveva rinveruto nell'alloggio che gli era stato assegnato presso il servizio diverse microspie Ancora dall'escussione delle persone a conoscenza dei fatti è in modo particolare di Russo Letterio che è uno dell'elenco dei 622 destinato alla Calabria e alle esigenze di Reggio Calabria che questi aveva ricevuto la confidenza da Paolo Inzerilli che il premier Andreotti sarebbe stato oggetto di pedinamento allorquando vi era stata la discopria di Sugladio e allorquando il presidente del consiglio aveva in animo di sciogliere la struttura ho poi precisato che Russo Letterio era un gran maestro della loggia Adinolfi di Messina ho precisato che Russo Letterio era legato da vincoli parentali a Paolo Fornaro quindi la persona che ci aveva parlato dei campi di San Martino di Castrozza e che assieme all'Icausi aveva costituito il centro scorpione di Trapani avevo anche precisato che Russo Letterio è stato per diversi anni interessato a un'agenzia di assicurazione che faceva parte del del satellite assicurativo che rimandava a Enzo Cafari di cui ho già parlato ma di Russo Letterio si parla anche agli atti del processo Rostagno ed in particolare viene fatto riferimento alle dichiarazioni di un altro collaboratore Elmo quando lei dice atti intende la sentenza alla sentenza alla sentenza quindi poi mi riservo successivamente nel corso dell'esposizione dell'informativa di riportare questa parte di le dichiarazioni di Elmo in cui si fa riferimento a Gladio e a Russo Letterio va bene va bene ne prendiamo atto allora dalla complessiva attività di acquisizione abbiamo documentato che l'addestramento del gruppo di operazioni sospette avesse riguardato operazioni aereo-marittime e da qui abbiamo documentato che il servizio aveva la disponibilità di un di una sorta di motoscafo di altura uno yacht da diporto che spesso era presente nella zona di Trapani e di un velivolo ultraleggero che si trovava presso il centro Scorpione di Trapani un aereo addirittura che era stato acquistato personalmente dal tenente colonnello Fornaro poi con l'accordo con il servizio che ci sarebbe stato uno storno per la restituzione di quello che lui aveva pagato che poi era stato riconvertito e adattato per poter planare sul mare utilizzato tra Trapani e Pantelleria per poter monitorare la zona avevo anche fatto riferimento al fatto che il giorno di Capaci si era parlato dell'esistenza di un aereo ultraleggero che avrebbe sorvolato in quella zona un'altra attività del testamento è quella che riguarda le Psychological Operations spiego molto banalmente di cosa si sta parlando attività rivolte alla informazione disinformazione contro informazione intossicazione della notizia attività di guerriglia lo abbiamo letto già ai tempi di Rocca e Allavena nel cui si parlava di attività di guerriglia sabotaggio e di terrorismo in questo caso si sta parlando di guerriglia però è uno degli elementi che rileviamo già nel 1963 attività RT sulle radiocomunicazioni nella nota dello SCA abbiamo visto che in quegli alberghi erano presenti soggetti di Alcatel Feis interessati a comunicazioni industriali e comunicazioni militari esplosivi rete di esfiltrazione e infiltrazione solo per lo stay behind e addestramento al tiro torneremo avanti su queste denominazioni perché dalla interpretazione che noi facciamo di quei grafici sulle strutture stay behind ritroveremo gli acronimi di queste di queste di questi interessi parlavamo di operazioni psicologiche la falange che disinforma intimidisce per allontanare i sospetti da gladio è composta da addetti ai lavori che parlano in gergo tecnico militare avevano scritto i giudici di Italicus Bis leggerò più avanti il primo documento con cui il governo italiano si era impegnato con il governo americano a creare una struttura segreta stay behind dove tra gli accordi si parlava dell'utilizzo di codici cifrati dei servizi segreti americani prima della rivendicazione di via d'amelio del 1907 1992 la falange aveva inviato ad adn cronos l'11 luglio 1992 il seguente messaggio preso atto delle reiterate azioni di disturbo di legittimazione quando non di basso e vile sciagallaggio perpetate a nome della falange armata nonché dell'uso troppo volte falso spregiudicato e strumentale che della nostra organizzazione trovano spesso gioco scopo torna conto di fare posto che gravi e drammatiche iniziative strategiche di un'altra l'organizzazione si accinge nuovamente ad intraprendere riteniamo essere utile e prudente quella di fornirvi di un codice di riconoscimento dal quale al fine di accertarne l'autenticità di eventuali azioni o rivendicazioni saranno da oggi in avanti immancabilmente preceduti il codice è il seguente FA 763321 ho riportato il lessico senza modificarlo quindi ci sono alcuni punti dove può mancare qualcosa però non ho aggiunto nulla l'analisi della falange armata e i rapporti con Gladio sono stati oggetto di un approfondito studio da parte di due giornalisti Massimiliano Giannantoni e Massimo Volterra non è il classico testo giornalistico ma è un approfondito lavoro di acquisizione documentale che si basa esclusivamente su documenti ufficiali che sono stati collazionati scrivono a un certo punto nel parlare del cosiddetto codice Borsellino è un piccolo significativo cambio di tattica ma è anche un verso intimidatorio che fa il verso a certe abitudine da servizi segreti in voga fin dai tempi di Gladio quello di assegnare a qualsiasi documento operazione agente ufficio funzione rapporto un codice o un nome di riconoscimento adesso non vi potete più sbagliare è il senso del messaggio della falange adesso non potete non potete più dire che si tratta di mitomani o di buontemponi questo è il messaggio giunto alle agli ufficianza di Palermo e Torino buonasera qui falange armata codice di riconoscimento 763321 confermiamo il testo molto breve comunicato poco fa alla sede palermitana dell'Ansa riguardante l'azione di questo pomeriggio in via autonomia siciliana ai danni del giudice Borsellino chiuso comunicato senza volermi soffermare su via Fani è necessario soltanto dire che il 17 maggio del 1978 in via Foa dentro un covo della pregriose fu trovata una stampatrice AB DIC 360 proveniente dal reparto unità speciali del sismo senza volermi soffermare sulla vicenda relativa al sequestro Moro la mattina del 16 marzo in via Fani era presente il colonnello Camillo Guglielmi che sarebbe stato poi addestratore a capo Marrargio e responsabile dell'ufficio controllo e sicurezza del raggruppamento unità difesa cioè l'ufficio indicato da Delutis quale nucleo centrale di Gladio con l'acronimo UF CONTR e SIC quindi quel nucleo centrale di colore rosso formato da due gruppi da 15 i primi 15 sarebbero stati UF CONTR e SIC quindi ufficio controllo e sicurezza Nello schema di Delutis che riguarda il documento del 1985 è fatto riferimento a 15 uomini di falange armata in trani al sismi e non a 16 noi abbiamo detto più volte fatto riferimento all'elenco dei 16 cioè l'elenco che l'ambasciatore Fulci inviò al comandante generale dell'arma dei carabinieri e 13 al prefetto Parisi mentre Delutis scrive 15 ho poi specificato che di questi 16 l'unica persona che non sarebbe stata in trani era il colonnello Masina che comunque era un ufficiale del sismi deputato all'attività di raccordo con l'alto commissario ma l'inciso che fa Delutis è un inciso analitico preciso infatti nel documento di costituzione del del nucleo dei GOS nel documento di cui ho parlato prima del gennaio del del 1986 alla voce materiali è inserito in allegato da 4 a 10 è riportato studio dei materiali ritenuti necessari ad equipaggiare tre GOS tra parentesi 15 uomini più una serie per 5 uomini da considerare quale volano e per le esigenze del nucleo comando un attimo soltanto più avanti farò un altro riferimento alla vicenda di Camillo Guglielmi questa volta relativa alle dichiarazioni che entrate in un processo penale riguardante una persona che aveva ricevuto a sua volta delle confidenze da parte di un sottoposto di Guglielmi il carabiniere Ravasio che era un carabiniere baracadutista in cui veniva fatto riferimento al fatto che vi sarebbe stato dentro il sismi una struttura riservata denominata Gladio dalle dichiarazioni che poi aveva reso Camillo Guglielmi sarebbe emerso che tra il personale appartenente a questo ufficio così riservato dell'ufficio controllo e sicurezza uno degli appartenenti era tossicodipendente e un altro testimone di Geova è emerso poi dagli atti di Delutis che tutta l'attività di riscontro che veniva fatta per l'arruolamento delle persone che avrebbero dovuto fare parte di questo nucleo duro della settima divisione del sismi tutta l'attività di riscontro era stata curata da questo ufficio controllo e sicurezza però a prescindere dagli esiti delle valutazioni dell'ufficio controllo e sicurezza autonomamente il servizio decideva se arruolare o meno queste persone anche con le controindicazioni dallo stesso documento di Delutis di analisi su Gladio si rileverà che molti degli operatori del sismi monitorati si sarebbero trovati amministrativamente in ferie nel momento in cui gli stessi si trovavano all'estero in aree soggette a crisi geopolitiche di conflitto per poi rientrare in Italia riportando importanti traumi fisici ferite documentate con referti presumibilmente di comodo presso strutture ospedaliere con l'indicazione di trauma occidentale diversi dei soggetti esaminati sarebbero stati ancora iscritti a loggie massoniche però mi soffermerò poi in dettaglio sull'argomento sempre dalle carte di Delutis si legge la Gladio siciliana non operava presso il confine nord-est e nessuno dei compiti ufficialmente attribuiti a Gladio poteva applicarsi alla componente siciliata che aveva il suo logo di maggior interesse nel centro scorpione di Trapani questo perché si è parlato sempre di stay behind come soggetto di contrasto all'avanzata dalla parte dell'est quindi difficilmente ipotizzabile che a Trapani potesse arrivare un car armato del patto di Pazzai il centro scorpione era dotato di mezzi veloci un aereo superleggero che poteva volare a bassissima quota fuori dalla possibilità di intercettazione dei radar e un motoscafo veloce ho già fatto riferimento prima al tema il centro scorpione era a due passi dalla sunisia e quindi dal magreb dove ha operato la gladio militare come ci ricorda il corriere della sera del 15 4 1993 falcone volle indagare anche su un altro centro di addestamento speciale quello di Trapani chiamato scorpione lì gli agenti segreti avevano a disposizione un aeroporto ben nascosto san vittolo capo è nota del redattore è un velocissimo battello dal turo falcone chiese autorizzazione a indagare sulle probabili spy mission in libia tunisia e algeria ma il procuratore capo di palermo Gianmarco gli negò l'autorizzazione sempre all'interno di quei documenti di analisi di dell'Utis faccio presente che non si tratta sempre di documenti che sono stati indicizzati e che quindi hanno una lettura organica e armonica ma di fogli sciolti che alle volte non è semplice poter procedere a una loro indicizzazione e quindi legarli a una visione d'insieme ma ciò nonostante ci danno la visione di ciò che si che era contenuto in quell'archivio si fa riferimento a un manuale militare americano le operazioni di guerriglia in relazione al filed manual FM 3031 alcuni brani del filed manual furono pubblicati nell'ottobre del 1978 dall'europeo l'importanza della guerriglia e anti guerriglia per la NATO è chiaramente definita dal filed manual USA manuale che Gelli ricevette e che aveva grande importanza per la P2 il filed manual parla chiaramente di azioni clandestine del fatto che un volcimento più profondo dell'esercito poi prosegue su altri temi da un altro frammento ricordiamo che una copia del filed manual fu trovata nel sottofondo di una valigetta della figlia di Gelli le operazioni previste dal filed manual si riferivano anche attività da svolgere all'estero come quelle effettuate dalla CIA e quelle presumibilmente effettuate dalla gladio militare è bene precisare che la legislazione italiana non prevede l'impiego di personale armato in operazioni clandestine la legge 810 del 77 sancisce l'articolo 10 nessuna attività comunque idonea per l'informazione e la sicurezza può essere svolta al di fuori degli strumenti delle modalità delle competenze e dei fini previsti dalla presente legge è opportuno anche ricordare che l'articolo 288 del codice penale stabilisce la illegalità di chiunque senza approvazione del governo a ruoli e armi dei cittadini perché militino in operazioni armate a favore dello straniero circa l'impiego di gladio il ministro formica così si espresse in un'intervista sulla repubblica il 5 dicembre 1990 nell'italia repubblicana si è costituito un esercito assolutamente incompatibile con il nostro ordinamento uno stato democratico può certamente avere dei piani segreti è suo dovere ma non può assolutamente avere una milizia clandestina persino Benito Mussolini per istituire una milizia fece una legge bene quindi completata l'illustrazione delle slide adesso dovremmo iniziare l'analisi della nota informativa presidente ci dica lei se vogliamo iniziare già oggi il lavoro la possiamo fare quindi cominciamo perfetto e allora dottore Di Stefano vuole che perché con la mascherina diventa sempre sentendo lei ecco nel senso che vuole che allora dottore Di Stefano torniamo all'elaborato che lei ha richiamato all'inizio di questo suo intervento per illustrarlo l'attenzione della Corte per portarlo all'attenzione della Corte le chiedo proprio anche per avere subito chiara qual è la struttura di questo elaborato di indicarci di quali parti lo stesso è composto di quale elaborato stiamo parlando informativa trasmessa alla DDA di Reggio Calabria con vostro numero di qui leggibile nella fotocopia ma per capirci siamo il 26 ottobre del 2021 sì allora se se non dispiace quel documento compendia in parte la successiva nota del 16 11 2021 quindi io lo stesso tema che riguarda falange armata e la settimana di sismi l'ho inserita nello stesso contesto va bene quindi tratterò ovviamente non ripetiamoci così evito di trattare due volte lo stesso argomento esatto ove necessario le richiamerà quello che già ha detto in questa sede sì allora innanzitutto dal da quel documento con cui viene costituita la struttura eh nel nel gennaio del 1986 si fa a un certo punto riferimento al personale da richiedere per la costituzione del GOS nel prospetto di elenco sono indicati una serie di soggetti tra cui il tenente Marcoccio Gaetano che poi sarebbe eh stato all'interno di quella lista dei sedici ma viene indicato anche un'altra persona Capitano Passafiume Angelo in servizio presso il nono battaglione baracutisti assaltatori con l'incarico previsto quello di comandante del GOS presso il primo CAS di Alghero il riferimento al Capitano Passafiume a rilievo in questo contesto perché quando Vincenzo Ricausi morì a Balad nel novembre del 1993 mentre si trovava in compagnia di Giulivo Conti uno dei componenti dell'elenco dei sedici il capo cellula G2 cioè in termine militare il soggetto deputato al coordinamento dell'attività di informazione militare in Somalia era il colonnello Angelo Passafiume all'inizio della deposizione ho detto che la nostra attività di analisi si sarebbe avvalsa di logiche di tipo scientifico e di logiche che riguardano l'analisi delle fonti aperte e la social media intelligence da approfondimenti effettuati attraverso il social facebook è stato analizzato il profilo di Passafiume Angelo rilevando collegamenti amicali con Scrocco Roberto che è uno dei componenti del gruppo dei sedici Garibaldi Bruno che è uno dei componenti dei sedici a loro volta Garibaldi Bruno e Scrocco Roberto in collegamento con Conti Giulivo e ancora Garibaldi Bruno con Scaglietta Alessio Martinello Paolo e Caporali Carlo quindi altri tre componenti del gruppo da qui abbiamo rilevato ulteriori collegamenti che sono in fase di analisi da un altro documento che è stato prodotto dal servizio all'attenzione del Cesis a seguito di richieste di chiaramente in merito all'esistenza della struttura Gladio e dell'elenco dei sedici vi è un riferimento al colonnello Masina dove è scritto testualmente dirigente del collegamento per l'alto commissario dall'1 1 1989 al 15 9 1990 prima ho parlato di russo letterio è sempre nel contesto delle assunzioni di informazioni che abbiamo preso al fine di riscontrare quello che noi abbiamo acquisito è emerso che russo letterio aveva segnalato all'epoca al capitano Masina in servizio presso il controspionaggio la sua disponibilità a far parte di una rete di informatori nel settore della criminalità organizzata per le esigenze dell'alto commissario andando a vedere un attimino meglio il contenuto dell'organigramma io cercherò di farlo vedere più in dettaglio se riesco all'interno di quell'organigramma scendendo si rilevano tre suddivisioni della gladio una gladio verde una gladio gialla e una gladio rossa queste suddivisioni erano delle suddivisioni che erano state oggetto di commento in quel documento della della commissione parlamentari in cui si faceva riferimento alla costituzione del la costituzione del 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 GOS e al fatto che vi fosse una suddivisione compartimentata di queste tre strutture però lo rileggo un attimo perché è importante il documento in questione si fa riferimento al documento ipotesi di una nuova struttura stay behind il documento in questione sembra indicare la volontà del servizio di riarticolare la struttura gladio su tre livelli in modo da rendere opportunamente divulgabili alcuni settori in aderenza con quanto dette autorità politiche e militari crederanno di far nascere ex novo e che per noi dovrà solo rappresentare una fonte di reclutamento ed una copertura in più per quel cuore che dovrà continuare ad essere opportunamente scremato e ridisegnato cioè il nostro attuale organismo in questo schema l'organizzazione verde rappresenta il livello da condividere con le tre forze armate l'organizzazione gialla costituisce un filtro per selezionare gli elementi migliori e più sicuri l'organizzazione rossa coincide con la vera e propria rete clandestina di esclusiva pertinenza e conoscenza del servizio questa suddivisione però non è una suddivisione che può collimare con con l'analisi che viene fatta da Giuseppe De Lutis innanzitutto perché prima viene specificato il GOS risulta essere una struttura rigidamente compartimentata dotata e dotata di forte autonomia operativa e gestionale tale autonomia è evidenziata dalla posizione che il GOS occupa nello schema allegato al documento ipotesi di una struttura stay behind gerarchicamente subordinato alla sezione addestramento speciale il gruppo risulta del tutto indipendente rispetto ai tre livelli di organizzazione verde, gialla e rossa ipotizzati dal progetto di strutturazione quindi è lo stesso documento lì a riferire che il GOS sarebbe stato una struttura comunque ancora più coperta di quella struttura rossa che indica nello schema va fatta un'altra valutazione questo documento è un documento del 1992 e sta analizzando una riarticolazione che viene fatta nel 1986 prendendo in considerazione un organigramma di cui si sconosce la data in cui è stato originato l'analisi che fa De Lutis è un'analisi che viene fatta su un documento del 1985 ma è un'analisi che presumibilmente è necessariamente successiva a questa dal momento che poi De Lutis sarebbe stato il coordinatore dei consulenti delle commissioni dal 1994 andando ai tre livelli che sono indicati in quell'organigramma quando si parla di organizzazione verde c'è indicata una sigla G poi a destra c'è una freccia che indica gruppi azioni altre linee l'indicazione G si ritiene possa essere riferita al nome guerriglia quindi una delle attività che erano previste nel contesto dell'organizzazione scendendo all'organizzazione gialla si fa riferimento a tre indicazioni I, P, G India Papa Golf si ritiene che I sia da intendersi informazione P possa intendersi psychological operation e G guerriglia sotto ancora l'organizzazione rossa si fa riferimento a una serie di acronimi e di indicazioni puntate E, 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 R, T, I, S, P, N, G, V, C, R, C, R e questa organizzazione sarebbe era collegata a delle reti reti E, E, I reti P, S, G SPEC CR VCR RT allora cerchiamo di dare un'indicazione logica a quelli che possono essere questi acronimi abbiamo detto che IPG quindi India Papa Golf potrebbe essere informazione psicologica operation guerriglia con l'indicazione si ritiene possa essere riferito a esfiltrazione e infiltrazione quindi uno dei compiti che abbiamo indicato prima e che emerge dai documenti ufficiali RT che si è riferito alle radiocomunicazioni CR Charlie Romeo che possa essere riferito al coordinamento e recupero I informazione S di Sierra sabotaggio quindi in questo documento vediamo quella che che riguarda questa riarticolazione di questa struttura dove comunque è presente una sezione che è staccata da tutto il contesto che è da intendersi la sezione addestramento speciale da cui di parte il GOS e da cui di parte anche il nucleo azioni coperte ebbene nel mettere in parallelo questa indicazione con il disegno fatto da De Lutis sui tre cerchi si ritiene che la parte relativa a GOS e NAC possa essere quella riferita al cerchio centrale che indica De Lutis in riferimento alla Gradio su tre livelli ovviamente non abbiamo altri elementi per poter dare altre indicazioni ma questa è l'ipotesi investigativa da cui noi siamo partiti e stiamo lavorando un altro passaggio che ha particolare rilievo negli atti che vengono trasmessi dal servizio militare al CESIS riguarda quella che è l'evoluzione negli anni degli OSSI in buona sostanza questo questo nucleo del GOS gruppo operativo speciale in alcuni documenti vengono chiamate anche OSSI operazioni speciali servizio informazioni ebbene seppure la struttura doveva essere smantellata dopo il 27 ottobre del 1990 vedremo che tra il 1990 e il 1991 questa addirittura sarà potenziata in modo importante con nove nuovi arrivi cosa che in buona sostanza va in controtendenza con quelle che erano le logiche politiche di scioglimento e di diciamo di abbattimento di questa struttura clandestina a meno che questo noi non lo conosciamo questa struttura sia stata potenziata per esigenze diverse rispetto a quelle che erano quelle di stay behind ma dai documenti che abbiamo acquisito emergono su richiesta del Cesis l'elencazione di una serie di attività fatte da questo gruppo speciale dalla Tunisia al Peru alla Somalia all'Algeria Etiopia Tunisia Spagna Tunisia Mozambico Algeria Guinea Algeria Albania Tunisia Mozambico Etiopia Peru Ecuador Colombia Algeria Tunisia Albania Italia Etiopia Algeria Tunisia Giordania United Kingdom Tunisia Beirut Almania Confine Italo-Yugoslavio Turchia Albania Tunisia Stati Uniti Ciò è in un contesto dove dalle acquisizioni che sono state fatte pare che non ci sia stata a monte un'autorizzazione governativa all'impegno di spesa o all'invio di personale per esigenze militari Le risposte che abbiamo trovato sono risposte che riguardano esigenze di addestramento di forze militari in quelle località dove si sono portati questi gruppi speciali o al fine di poter ascoltare VIP e autorità istituzionali o per effettuare attività di addestramento Tra le attività che è stata fatta ci sono diverse attività che sono a protezione e favore di alcuni onorevoli tra cui l'onorevole Craxi e l'onorevole De Michelis Craxi sarebbe stato europarlamentare dal 25.7.1989 al 36.1992 Da un documento del 1991 vediamo se riesco a farvelo vedere No un attimo non è lì però me ne leggo il contenuto Vi è una corrispondenza numerosa tra il segretario generale della presidenza del consiglio e il segretario del cesis Fulci al fine di comprendere se l'istituzione degli Ossi fosse stata passata fosse stata sottoposta alla condivisione politica anche al fine di avere chiarimenti sulle tante missioni estere in aree che poco avevano a che fare con le esigenze geopolitiche italiane quindi i documenti che ho fatto vedere poco prima riguardavano questa documentazione dove però emerge che in buona sostanza la parte politica era rimasta all'oscuro di questo invio del personale in altre località extraeuropee avevo detto che vi sarebbe stata una sorta di evoluzione del di questo reparto in un determinato periodo temporale dopo il 1990 in questo documento del 5 ottobre del 1990 Goffredo Qualcanino che era il capo dello stato maggiore dell'esercito risponde a Fulvio Martini dicendo che è lieto di aderire alla sua richiesta comunicando che il maggiore Pietro Cossu è disponibile con immediatezza mentre il sergente maggiore Renato Daretti e il sergente maggiore Roberto Scrocco possono essere assegnati al citato ente a partire dal primo aprile del 1991 quindi è un documento da cui concretamente si evince che questo gruppo avrebbe continuato ad essere presente dopo il 1990 Scrocco è uno dei soggetti inseriti nell'elenco dei 16 cosa che non è invece Daretti questo è il tornando indietro il documento in cui si faceva riferimento a quindi al numero 13 a destra trovate sergente Scrocco Roberto ma in questo elenco non trovate Daretti avevo fatto riferimento nella prima deposizione al fatto che con decorrenza prima agosto del 1993 quindi tre giorni dopo le stragi del di luglio con la disposizione interna numero 235 Scrocco quindi la persona di cui ho appena parlato assieme a Licaosi e assieme a Mario 40 sarebbero stati trasferiti ad altra sezione del sismi e che il giorno successivo Licaosi sarebbe stato inviato in lunga missione all'estero da un altro documento avente ad oggetto sezione OSSI e fa parte sempre della documentazione acquisita attraverso la DNA di cui siamo oggetto di delega è indicato finalità istitutive della struttura e grado di conoscenza a livello politico in particolare se fu data informazione preventiva al Ministro della Difesa protempore o dopo che detta struttura fu istituita compiti iniziali ed eventuali modifiche intervenute nel tempo organigramma completo della sezione con specificazione della consistenza attuale denominativi degli appartenenti dei relativi incarichi e del grado da ciascuno rivestito in amministrazione di origine in particolare la data di nascita di De Santis Giorgio se gli operatori Conti Giulivo Pastro Giuseppe Tolo Giorgio Scrocco Roberto e Cosupiero siano ancora in forza rude chi ha deciso di eribire questo nucleo alla protezione di personalità in particolare perché se ne occupava questa struttura come e da chi erano individuate le personalità da proteggere chi assisteva le altre personalità nei viaggi all'estero ragioni e modalità dell'addestramento svolto nel deserto magrebino da quali esigenze nacque l'addestramento a sabotaggio a favore della polizia peruviana nel 1987 nonché l'assistenza tecnica alla Guinea nel 1989 perché se ne occupò la sezione Ossi le operazioni erano state assentite dal ministro della difesa natura e ragione delle cosiddette operazioni di ricerca informativa citate nei prospetti relativi all'attività svolta dalla sezione Ossi ove la struttura sede attualmente e se è stata realizzata la prevista costruzione di una palazzina in Cerveteri per le esigenze degli Ossi nella documentazione già trasmessa alla presenza del Consiglio dei Ministri si rospetta l'acquisizione anche di due elementi del Ministero dell'Interno vedasi appunto del direttore del servizio del 21-5-1990 per i quali mancano i riferimenti nominativi ed il relativo carteggio inteso al loro reclutamento si gradirebbe ricevere la documentazione mancante quindi questa è una nota con cui il Cesi si interloquisce con il servizio al fine di poter chiarire al Presidente del Consiglio dei Ministri una serie di quesiti che solo in parte sono stati oggetto poi di chiarimento con quell'elencazione che ho prima fatto vorrei però precisare che quando si fa riferimento all'acquisizione di due elementi del Ministero dell'Interno nella precedente deposizione avevo fatto riferimento al fatto che quando presso il raggruppamento unità difesa vi fu una perquisizione interposta disposta da autorità giudiziaria con personale della Polizia dei Carabinieri e della Guardia di Finanza vi rappresenta pure un agente della DICOS di Roma che successivamente ad alta documentazione risulterebbe tra il personale che dalla settima divisione del Sismi è stata trasferita all'altra sezione quindi si rileva un dipendente che prima ha fatto una perquisizione per conto della propria della Repubblica e che successivamente diventa inserito in quella stessa settima divisione su cui stava lavorando la risposta a quei quesiti viene data in data 12.11.91 dal direttore del servizio Ramponi finalità istitutiva Disporre di personale specificamente addestrato per svolgere in territorio ostile e non in qualsiasi ambiente attività di carattere tecnico operativo connesse con la guerra non ortodossa e di compiti istituzionali del servizio ciò analogamente a quanto fatto da tempo ad altri servizi B grado di conoscenza a livello politico nessuno trattandosi inizialmente di pochi elementi altamente qualificati in sedia in una struttura già esistente la riunione di suddetti elementi in un'unica struttura in data 28.286 non è stata comunicata trattandosi di una sezione che a livello ordinativo che rientra nell'attribuzione del direttore del servizio costituire peraltro prescindendo dalle strumentalizzazioni dei mass media non vi era nessuna necessità di informare le SSA in quanto come si evince dal sottostante paragrafo i compiti assegnati di competenza della settima divisione i compiti assegnati della settima sezione rientrano tra quelli normali di competenza della settima divisione in altri termini non compiti nuovi ma personale selezionato e addestrato con nuovi criteri poi vengono elencati chi sono i componenti dell'organigramma e in questo organigramma rientrano tutti i 16 tutti i 15 che abbiamo indicato e non anche Masina e quindi Garibaldi Bruno Marcoccio Chetano Nicolello Antonio Morandi Mauro Conti Giulivo Marchionni Carlo Bonanni Antonio Caporali Carlo Scaglietta Alessandro Martinello Paolo Passero Giuseppe Tolu Giorgio Scrocco Roberto De Santis Giorgio Giannella Mauro ovviamente qui non vediamo né l'Igausi né vediamo gli altri quattro che erano stati per incrocio individuati dallo SCA della Polizia di Stato due di queste persone passero Giuseppe Scrocco Roberto in data 1 8 1993 sarebbero stati trasferiti infatti con l'Igausi alla terza sezione stati per quanto riguarda le autorità che erano state oggetto di scorta viene indicato l'ambasciatore Ruggero l'onorevole De Michelis l'onorevole Susanna Agnelli l'onorevole Craxi ancora nel 91 l'onorevole De Michelis e l'onorevole Craxi e su indicazione della presidenza della Repubblica nel 1990 è stata fornita protezione a fuori dell'ambasciatore Berlinguer Per quanto riguarda l'attività svolta in Peru e in Guinea viene precisato che l'ha stato svolto addestramento antisabotaggio a favore della direzione antiterrorismo della polizia peruviana a tale attività gli Ossi hanno partecipato con due operatori in supporto ad altro ufficio del Sismi su direttiva del presidente del Consiglio di Ministri Termine Per quanto riguarda la Guinea a seguito di autorizzazione del Ministro della Difesa Pro Tempore gli Ossi se ne occuparono per due aspetti consulenza sulla sicurezza del presidente della Guinea nella propria residenza in ufficio e in movimento e addestramento in Italia del personale di scorta del presidente della Guinea relativamente alle tecniche di guida sicura e alle tecniche cooperative di scorta e protezione all'interno di tanti documenti che abbiamo rinvenuto nell'archivio di Giuseppe De Lutis è presente un documento all'epoca segretissimo datato 28 novembre 1956 abbiamo sia una copia in italiano che una copia in inglese dove c'è scritto Gladio una rielaborazione degli accordi fra servizio informazione italiano e il servizio informazione USA relativi all'organizzazione nell'attività della rete clandestina post occupazione stay behind italo-statunitense 28 novembre 1956 il servizio informazione italiana e il servizio informazione USA concordano vicendevolmente di collaborare nell'organizzazione nell'addestramento e nell'attività operativa del complesso clandestino post occupazione stay behind italo-statunitense progettato per entrare in attività nel caso di occupazione del territorio italiano da un'aggressione nemica diretta contro la sicurezza delle potenze NATO il sistema comprenderà reti addestrate per poter operare nei seguenti campi informazioni sabotaggio evasione fuga guerriglia propaganda tanto il servizio informazione italiano quanto il servizio informazioni USA concordano inoltre di impiegare la più rigorosa precauzione di sicurezza in tutte le fasi dell'attività ribadisco che la fonte di acquisizione è l'archivio di Giuseppe De Lutis che è stato acquisito all'interno dell'archivio della fondazione Sergio Flamigni quindi alla domanda fattami dal procuratore generale sul fatto che questi documenti possano essere o meno ancora soggetti a classifica do per scontato deduco che siano documenti di pubblica consultazione ma non ho non posso dire il contrario non so se poi questi documenti siano stati o meno mantenuti riservati è un documento obsoleto quindi chiedo anche lui e voi quindi forse si riferiva a lei il testo sì stavo stavo dicendo il documento che sto leggendo sì 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 è un documento che originariamente ci è scritto segretissimo all'interno di un archivio che è nella libera disponibilità quindi che è liberamente accessibile quindi io ritengo voglio dire che si possa tranquillamente illustrare va bene è inteso che per la partecipazione del servizio informazione italiano in questa attività comune è basata sul presupposto che i piani dello Stato Maggiore di Difesa Italiana prevedono l'attuazione di tutti gli sforzi per mantenere l'isola della Sardegna e che la base iniziale per le operazioni del complesso clandestino post occupazione italo-staturidense sia installato quindi in Sardegna recita ancora inoltre inteso che nel caso in cui il ritiro della Sardegna sia palesi opportuno si renda necessario il servizio informazioni USA procurerà le installazioni necessarie per la sostituzione di una nuova base dalla quale possa essere assicurata la continuità delle operazioni del complesso clandestino post occupazione italo-statunitenso da parte dei servizi italiane USA ricordo l'avevo detto nella deposizione del 17 facendo una cronologia degli eventi italiani di quando ci fu la programmazione del cosiddetto piano solo che tra le progettualità ci sarebbe stata anche quella di poter portare delle persone ritenute indesiderate da un punto di vista politica nella base militare di Capo Marragio che ritengo debba essere individuabile nella stessa area di cui stiamo trattando adesso gli impegni da parte del servizio informazione italiano procurare una località per l'installazione della base in Sardegna procurare il personale svolgere attività azione di reclutamento e di addestramento usare piani di trasmissione e cifrari forniti dal servizio informazioni USA dare quando richiesto ospitalità ad una missione del servizio informativo USA nella base in Sardegna particolarmente in caso di ostilità e consentire la direzione operativa comune del servizio informativo italiano e del servizio informativo USA controllare unitamente al servizio informazione USA la sicurezza di tutti gli agenti clandestini reclutati procurare quei fondi equipaggiamento e materiali che possono essere reperiti dal servizio informazione italiano non fare alcun passo né prendere alcun impegno che comportino la spesa di fondi o l'uso di materiali forniti dal servizio informativo USA senza la preventiva consultazione ed il preventivo assenso dello stesso finanziare con mezzi italiani qualsiasi uso che venga fatto della base in Sardegna in tempo di pace e che non abbia relazione diretta con il complesso clandestino post occupazione italo-statutunitense e prima di fare tale uso consultare il servizio informazioni USA mantenere il livello di addestramento ed il livello delle tecniche in accordo con le direttive del servizio informazioni USA impegni da parte del servizio USA fornire piani di trasmissione e cifrari per l'addestramento e per le fasi di attività operativa fornire tutti gli altri materiali di addestramento fornire ad un livello da concordarsi i fondi necessari la costruzione e l'attrezzatura della base di Sardegna per la costituzione di riserve di materiali armi e munizioni di scorta di fondi eccetera per l'uso da parte delle reti fornire ospitalità alla missione del servizio informazioni italiane in una base arretrata nel caso in cui quella della Sardegna divenga intenibile a questa elencazione faccio solo due precisazioni sono in fase di approfondimento delle attività di di crit analisi in relazione a quelli che sono i codici della falange armata che sono stati utilizzati altra considerazione riguarda il riferimento alla possibilità di altre basi di ospitalità delle missioni e al fatto che in epoca recente personale del del servizio militare abbia svolto attività addestrativa presso Camp Derby a Livorno quindi con il clonhau degli Stati Uniti d'America e quindi con le conoscenze tecnologiche e militari degli Stati Uniti d'America il documento che abbiamo preso in considerazione dove abbiamo trovato quel riferimento alla Gladio su tre livelli bianco verde e rosso indicati da Giuseppe De Lutis è rinvenuto all'interno di un fascicoletto che ha per oggetto aspetti relativi al reclutamento tra il 1979 e il 1981 di personale fra militari paracadutisti riporta dell'Utis il 14 ottobre del 1993 il giudice struttore di Bologna è inviato al direttore del Sismi al capo della quesizia e al comando generale armati carabinieri una serie di richieste di materiale documentare concernente della struttura denominata Gladio tra le richieste vi era una relativa necessità di disporre nominativi e copia della documentazione relativa all'assunzione e alla permanenza in servizio del personale assunto fra il 1979 e l'inizio del 1981 su iniziativa dell'Ufficio Controllo e Sicurezza allora diretto dal colonnello Musumeci ho già spiegato cos'era l'Ufficio Controllo e Sicurezza ho già fatto riferimento a Camillo Guglielmi il 10 dicembre 1993 in essio della richiesta il direttore del Sismi ha fatto pervenire un elenco di 30 nominativi e per ciascuno di essi un incarto comprendente atti relativi alla posizione la nota di trasmissione del Sismi precisava inoltre che riguardo 15 nominativi tra questi nominativi ci sono Morandi Mauro e Scrocco Roberto quindi due dei 16 si trattava di elementi tuttora in servizio all'epoca presso il Sismi mentre per gli altri nominativi ugualmente numero di 15 si trattava di soggetti non più in servizio sempre con riferimento alla stessa epoca presso il medesimo organismo su tutti i nominativi considerati era ancora in corso ricerche ed archivio per il reperimento di ulteriore documentazione in data 3 maggio 94 il Sismi faceva pervenire al giudice sotto le 43 fascicoli ventuno dei quali si riferivano altrettanti paracautisti del gruppo dei 30 elementi reclutati a suo tempo dall'ufficio controllo e sicurezza a un certo punto riferisce gli incarti riguardanti ai singoli si presentano in una forma che può essere definita sciolta in quanto non corregata dalla presenza di indici a carattere organico sistematico ancora ciò non consente di verificare se gli stessi atti trasmessi costituiscano o meno l'interesse del carteggio del carteggio esistente non è parimenti possibile stabilire da quale o quali strutture del servizio i documenti provengano anche se sembra che essi per la totalità o per lo meno per la maggior parte possono identificarli in quelli esistenti presso la divisione personale del Sismi i contenuti delle carte sono strettamente attinenti alle fasi ai momenti dell'assunzione ai vari passaggi successivi intesi in sezzo tecnico come promozioni mutamenti di stati trasferimenti di incarico e di sede situazioni sanitarie nulla pertanto viene riferito alle attività e sui servizi svolti ad eccezione di solati spezzoni ed osservare tuttavia che la documentazione disponibile consente di ricostruire in modo sostanzialmente egevole l'intero susseguirsi delle vicende nell'ambito della vita amministrativa dei singoli i collegamenti tra le varie situazioni appaiono logici e conseguenziali e non sono ravvisabili evidenti buchi di documentazione salvo la particolarità che saranno presso indicate rimane però netta l'impressione che sia stata volutamente operata una selezione finalizzata ad escludere dalla trasmissione tutti i materiali relativi all'attività svolta dagli interessati ed anche gli elementi esplicativi concernenti i criteri del loro reclutamento e del loro mantenimento in servizio la fonte di reclutamento essi provengono nella totalità da reparti paracautisti nella maggioranza dei casi direttamente dalla Smipar dal nono battaglione d'assalto dal quinto battaglione paracautista della Lamein dal dodicesimo battaglione paracautisti di Tarquinia dal centottantacinquesimo gruppo artiglieria paracautisti di Livorno continua poi spiegando che il direttore del Sismi prega il generale fortunato di collaborare per la ricerca di elementi volontari qualificati da adibire compiti di istituto ed individuare in giovani appositamente selezionati in servizio di leva presso alcuni reparti della Smipar di Pisa brigata paracautisti di folgore e del raggruppamento lagunari a tale scopo il direttore del Sismi chiede all'utilizzazione del cornello d'anteligi comandante del raggruppamento di difesa a visitare detti reparti per trattare l'argomento in via riservata con i relativi comandanti procuratore generale il testo sta riferendo in relazione ad un'informativa e sta anche illustrandoci documenti non la sento bene quello che noi non riusciamo a cogliere ancora rispetto a questa informativa qual è l'ipotesi investigativa che si è seguita e che ci vuole essere illustrata in questa sede forse ci verrebbe più chiaro poi capire il senso in realtà il testo sta completando una serie di riferimenti che sono stati già fatti finora e che in questo momento assumono rilievo sostanzialmente in relazione ad un passaggio quindi da parte mia peraltro non c'è nessuna preclusione a che venga acquisita questa documentazione senza che si proceda alla sua illustrazione orale ma questo ovviamente è una proposta che io faccio anche alle altre parti il profilo è questo il profilo è che nella ricostruzione che il testo ha già fatto a un certo punto fa riferimento anche alla figura di Gioè che da ricerche effettuate da parte nostra ovviamente illustrate soltanto in parte finora dal dottore Di Stefano e poi il soggetto che morto suicida scrive la lettera in cui sempre relazione a quelli che sono i profili di nostro interesse fa riferimento a Domenico Papalia quindi il profilo è questo è chiaro voglio dire che mi pare che sia un profilo che sia stato già ampiamente esplorato quindi se c'è consenso da questo punto di vista possiamo acquisire la documentazione che il dottore Di Stefano sta illustrando e che fa riferimento all'archivio dell'Utis e per quanto mi riguarda diciamo questi argomenti possono essere ritenuti diciamo ricostruiti compiutamente quindi in caso contrario ovviamente il test sta illustrando tutti gli accertamenti che coinvolgono soggetti legati guarda caso proprio al reparto di cui Gioè ha fatto parte nella sua vita Presidente proprio a questo specifico passaggio documentale che sono gli aspetti relativi al reclutamento 79-81 di personale prescelto fra militari paracadutisti che è l'ultima parte dell'illustrazione su questi temi purtroppo sono molte pagine se c'è consenso le acquisiamo e per quanto mi riguarda abbiamo concluso questo tema di prova ora chiederemo ai difensori quello che volevo chiarire io era che ritenevo che il test e ora ci viene in qualche modo chiarito dalla procura generale ci disse le linee generali che hanno riguardato questa informativa e quello che si trattato dai documenti che in parte ci ha illustrato dopodiché poi se c'è da andare allo specifico ma serviva anche a noi per orientarci ecco può servire anche a noi ora ci sono stati dichiarimenti dalla procura generale però le difese su questa richiesta del procuratore generale come restando io non facevo una questione relativa ad abbreviare i tempi o meno abbiamo tutto il tempo necessario lo dico per tutte le altre parti eccetera però volevamo capire meglio dopodiché siccome c'è questa pagina 26 richiesta da parte della procura generale i difensori se si vogliono esprimere sono le pagine 26 29 della seconda nota cioè quella del 19 novembre se ritengono di doverci esprimere ora devono avere tutto il tempo necessario anche ecco voglio dire sì e poi sì la seconda va bene sì non li voglio ne e intanto allora comunque proseguiamo noi sì io volevo ne volevo chiarire se posso signor Presidente soltanto la ragione per la quale stavo cercando di fare una ricostruzione che sia una una ricostruzione documentale e non attraverso delle valutazioni fatte dalla polizia giudiziaria io posso anche non evidenziare tutto ciò che c'è in questo documento cerco di spiegare molto sinteticamente quali sono le conclusioni che fa che fa deludis in pratica lui rileva che c'è un'aliquota di assunzione che è un'aliquota di assunzione che sembra del personale che abbia una certa importanza da un punto di vista di specializzazione questo personale viene assunto attraverso un filtro che viene fatto da quell'ufficio di controllo quell'ufficio di controllo che a un certo punto sarebbe stato gestito dal colonnello Guglielmo Guglielmi questo ufficio di controllo fa delle valutazioni valutazioni in negativo dicendo non è idoneo al servizio e la persona viene assunta a prescindere senza che il servizio vada a chiedere scusa non è idoneo per quale motivo quindi indipendentemente da quelle che sono le considerazioni sono considerazioni che rimangono soltanto sulla carta o che al contrario dove invece le considerazioni sono positive e dice sì lo puoi assumere non viene assunto quindi un primo grado di di quesito che lui si pone ma per quale motivo che funziona aveva questo questo ufficio di controllo e sicurezza che poi è l'ufficio controllo e sicurezza che ha rilievo perché uno di quei quindici di quel nocciolo duro che lui ritiene possa essere inserito nel contesto diciamo di quel puntino rosso che rimanda a farange armata poi l'altro interrogativo che lui si pone è quello che fa una ricostruzione sui periodi di ferie e dice questa gente è andata in località che era teatro di teatro di guerra o comunque località estera particolarmente significativa da una visione geomilitare eppure risulta in ferie però molta di questa gente rientra in Italia e quando rientra in Italia dice no mi sono fatto male al braccio perché ho chiuso la mano nello sportello o per altre ragioni che sono bene o male banali e quindi lui ritiene che possa essere di comodo poi fa un'analisi anche dal punto di vista di affiliazione massonica di queste persone e rileva che diverse di queste persone risultano associate a determinate logge e fa un'elencazione in questo contesto poi lui richiama degli atti di una commissione parlamentare in cui viene sentito il procuratore della Repubblica Agostino Cordova persona che sarà oggetto di una serie di attentati rivendicati dalla Falange Armata il procuratore Agostino Cordova dice molte volte le annotazioni che venivano fatte dalle logge venivano fatte in modo evasivo per evitare che si potesse divenire alla certa identificazione della persona magari omettendo quindi il procuratore diceva che queste annotazioni nei registri delle logge potevano essere evasive mettendo soltanto il cognome e soltanto le iniziali del nome oppure modificando qualche lettera nella stringa del nome o del cognome o omettendo quella che era la professione quindi lui fa questa serie di elencazione spiegando che quel personale che aveva un rilievo in un contesto specialistico che era attenzionato in ambito a gladio era stato assunto con delle metodiche che sembrano un attimino o più che un attimino sui generis andando oltre io ho spiegato che da altri atti di indagine è emerso che una delle persone che lavorava con il colonnello Camillo Cuglielmi con il colonnello Camillo Cuglielmi erroneamente chiedo scuso ho detto prima Cuglielmo Cuglielmi è Camillo Cuglielmi quindi una delle persone che lavorava con Camillo Cuglielmi presso quell'ufficio avrebbe riferito a un'altra persona sentita dalla dotea giudiziaria i cui atti sono confliti in un altro processo che Cuglielmi faceva parte di una struttura segreta denominata Gladio dagli approfondimenti è stato sentito Camillo Cuglielmi e Camillo Cuglielmi riferisce tra le altre cose però non possiamo mi perdoni neanche in questa forma non possiamo introdurre contenuti dichiarativi chiedo scusa quindi non esiste una forma colloquiale all'interno del processo chiedo bene l'esigenza l'esigenza è chiara scusatemi un attimo io non ho fatto rilievi perché chiaramente il test è chiaro che noi non possiamo utilizzare dichiarazioni da altri soggetti che il test ci riporta però queste dichiarazioni ce le riporta e nei limiti in cui ce le riporta per evidenziare qual è stata la loro la vostra ipotesi ma vorrei che si seguisse poi se vogliamo utilizzare il dato da un punto di vista processuale dobbiamo sentire il soggetto ecco perché io in alcuni casi non ho detto nulla no 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 ma neanche io sono intervenuto presidente però vorrei che si seguisse di me che a volte per illustrare le conclusioni che ci sono rispetto a un'indagine una ipotesi investigativa per un momento non si può prescindere dal dato orale acquisito che però per essere utilizzato processualmente lo dobbiamo introdurre diversamente ecco perché io quando è qualcosa così di sintetico che serve a noi per capire no no ma presidente noi rispetteremo queste sue indicazioni proprio perché sarà indispensabile farlo per spiegare gli elementi di riscontro che noi abbiamo trovato rispetto a determinate dichiarazioni quindi non è questo il profilo però ritengo che per dare alla corte una ricostruzione organica non si debbano introdurre degli argomenti diciamo sforniti di una coerenza logica e cronologica come quella che ha caratterizzato il lavoro che si deve andare ad illustrare quindi sono intervenuto esclusivamente perché il commisterio di Stefano secondo me ha percepito forse in maniera errata l'esigenza di dover dire perché sta parlando di determinate cose e questo non è un profilo che assolutamente va illustrato così nella misura in cui il procuratore generale farà una serie di domande ben precise ha precisato qual è il profilo che riguarda i paracadutisti peraltro abbiamo ottenuto mi pare da tutte le difese il consenso a far entrare questa parte dell'informativa quindi si tratta intanto se diamo indicazioni precise che io la prossima volta ovviamente produrrò materialmente perché è inserita all'interno diciamo di considerazioni anche di altra natura so perfettamente qual è la rilevanza dell'ufficio controllo e sicurezza e che cosa mi interessa portare alla vostra attenzione però nel rispetto assoluto delle regole sulla prova dichiarativa quindi quando il test avrà necessità di fare riferimento a contenuti di questo tipo indicherà gli argomenti introdotti da un determinato soggetto senza ripetere le dichiarazioni rese da quel soggetto e spiegherà quali riscontri documentali o di altra natura noi abbiamo trovato che è quello che in parte stava facendo ma stava facendo secondo me alterando quello che era l'ordine della deposizione per far comprendere anche il rilievo di determinate acquisizioni quindi se possiamo proseguire dato per acquisito quel particolare passaggio dell'informativa io se la Corte è d'accordo andrei a chiudere oggi su queste tematiche chiedendo al testimone quindi al dottore Di Stefano di completare l'illustrazione dell'informativa nelle parti non acquisite indicando i riscontri documentali che sono stati trovati rispetto a un tema che mi pare sia stato ampiamente sviscerato abbiamo avuto un piccolo guaio perché mi sono cadute tutte le carte per terra e quindi si sono spaginate quindi ovvi avete la quindi diciamo l'alterazione dell'ordine legata alla caduta intanto volevo dire possiamo capire quale sono queste parti delle informative per le quali lei chiede dell'informativa all'acquisizione e c'è il consenso dei difensori se ho capito bene degli imputati e non ci sono opposizioni da parte degli altri difensori però noi dovremmo averle per valutare non è che che ci sia il consenso delle parti sull'acquisibilità o meno di questa informativa allora signor procuratore l'allegato 11 dell'informativa 2 stiamo parlando diceva è l'allegato 11 dell'informativa del 16 11 ce l'ho qui indicato sì l'allegato 11 quindi informativa del 16 novembre 2021 che nella parte discorsiva è contenuto tra le pagine 26 49 che fornirò ovviamente poi però nella parte discorsiva c'è uno stralcio mentre l'allegato 11 compendia tutto il documento ovviamente sì c'è il consenso presidente scortesemente che non riesco a sentire se si bassa un po' la mascherina per la difesa graviano c'è il consenso da acquisire questa parte da pagina 26 a 49 salvo eventuali domande poi a chiarimento certamente stessa cosa per la difesa filippone c'è il consenso all'acquisizione di questa parte va bene quindi procuratore generale vorrei capire questo è un'informativa che non è tra quegli atti che ci ha già versato lei no è l'informativa messa a disposizione delle parti quella stamattina qui in udienza no 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 è quella già riversata a dicembre esatto è tra quelle va bene per le quali c'è comunque la riserva nostra è stata messa a disposizione le parti perché avessero contezza per l'esame del test va bene comunque precisiamo i dati dell'informativa perché ci devono risultare a verbale sì sì 49 va bene 49 ma comunque tutto l'allegato 11 verrà prodotto va bene proseguiamo se allora dottore Di Stefano lei stava precisando quelli che il rilievo dell'ufficio controllo e sicurezza è quello che è il ruolo del colonnello Guglielmi ora io gli chiedo ovviamente di completare i riferimenti che lei stava già facendo e soprattutto di indicare la documentazione al riscontro che noi siamo riusciti a trovare e dove questa documentazione è stata rinvenuta sì no no è sempre quella sì sì una il consenso è stato prestato soltanto sull'allegato 11 all'informativa 16 novembre 2021 no 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 quella ancora non è stata illustrata cioè il consenso voglio dire a trattarla oggi ma non l'abbiamo ancora trattata ma qual è se la precisiamo no quella è un'informativa nuova ulteriore depositata stamattina possiamo precisarla così e i riferimenti alla banda della Magliana e ai rapporti con l'Andrangheta qui consento all'illustrazione ma non all'acquisizione innanzitutto il riferimento che io stavo facendo alle dichiarazioni del paracaudista Ravasio sono desunte dalla sentenza ordinanza del processo Italicus Bis e riguardano le dichiarazioni che sono state rese da Bettini Emanuele al pubblico ministerio di Roma in data 18 febbraio del 1992 e che riguardano il Guglielmi di cui ho detto l'altro riferimento che stavo facendo attiene a una dichiarazione che poi il Guglielmi avrebbe reso che avrebbe o meglio che avrebbe reso prima delle dichiarazioni del Bettini il 4 gennaio del il 16 maggio del 1991 poi Guglielmi sarebbe morto il 4 gennaio del 1992 e il 18 febbraio 1992 sarebbero avvenute le dichiarazioni di Bettini poi confluite nel processo dell'Italicus Bis quindi era questa la ragione per la quale stavo cercando di dare un minimo di sintesi di quelli che erano i contenuti dichiarativi ciò non di meno mettendo da parte quello che è il contenuto della sentenza Italicus Bis dove si fa riferimento a questa possibile struttura Gladio le modalità di accesso al servizio militare in modo per così dire sui generis sono state riscontrate da noi nel corso delle indagini anche attraverso le testimonianze delle stesse persone che sono state assunte per le esigenze della settima divisione del sismi se mi è consentito soltanto ai fini di dare riscontro a quelle che sono le risultanze che ho annotato indicherei chi sono i soggetti che abbiamo sentito in relazione ai temi che ci hanno dato conferma che le assunzioni avvenivano in modo del tutto anomalo quindi il reclutamento anomalo viene ricostruito sulla base di apporti dichiarativi si bene allora indichiamo chi ha fornito questo apporto dichiarativo e poi valuteremo se è un tema che assume rilevanza oppure no allora Paolo Inzerilli riferisce di essere transidato al sismi perché era un non ci deve dire allora forse non non ho capito sono anche stanco il procuratore allora le mie esigenze si vanificano le ho fatto una domanda le ho detto il reclutamento anomalo è acquisito attraverso apporti dichiarativi di chi punto i soggetti che hanno dato questo apporto dichiarativo perfetto allora Paolo Inzerilli Paolo Fornaro Francesco Crescenzo indica Letterio Russo e Antonio Ricitano basta? Sì poi abbiamo ulteriormente riscontrato delle quindi ha detto Inzerilli Fornaro Crescenzo Fornaro Crescenzo Russo Ricitano e Ricitano a me risulta anche una tale Licausi no la Licausi è riferita a un'altra questione non alle modalità di assunzione va bene se non semplicemente al fatto che poi lei è transitata nel servizio dopo la morte del padre però i riferimenti sono altri che erano di nostro interesse va bene proseguiamo poi in questo contesto scusi questa è la parte che lei in qualche modo ricollega a quella parte di documentazione che ci ha illustrato mostrando le slide in cui si dice che era necessario reclutare anche personale che non fosse uno stinco di santo ha una connessione con quel tipo di passaggio stiamo parlando diciamo di altri profili no stiamo parlando dei profili in cui a prescindere dalla possibile idoneità o meno avvenivano effettuate delle assunzioni potevano essere per ragioni di conoscenza diretta perché era l'amico dell'amico o perché aveva degli interessi politici particolari ma non per un profilo professionale effettivamente idoneo a quel tipo di attività di intelligence e in questi termini però a rilievo il discorso che lei ha introdotto su Daniela Ligaosi in relazione a un altro approfondimento che io ho accennato è riguardante la morte del padre mi pare di comprendere che lei su Vincenzo Ligaosi si sofferma anche in relazione a profili che riguardano Reggio Calabria siamo partiti da Vincenzo Ligaosi identificandolo a Reggio Calabria e da quel momento in poi abbiamo esplorato più compiutamente quelli che erano gli aspetti che riguardavano Vincenzo Ligaosi ripeto nuovamente il discorso di Reggio Calabria dall'incrocio dello SCA siamo arrivati a trovare dai sedici del gruppo dell'elenco fornito da Fulci ad altre cinque persone tra queste cinque persone c'era Vincenzo Ligaosi e Vincenzo Ligaosi viene identificato al Miramale di Reggio Calabria 48 ore prima della ufficializzazione della Lega Sud Italia con Presidente Giuseppe Schirinzi ho parlato diffusamente di Giuseppe Schirinzi ne parlerò ancora nelle successive deposizioni ho spiegato che Ligaosi subito dopo le bombe del luglio del 93 viene trasferita un'altra sezione dalla settima e viene trasferito assieme ad altre persone che facevano parte del gruppo dei 16 e il giorno successivo ancora viene mandato in missione in Somalia sarebbe dovuto rientrare in Italia nel mese di novembre per diverse volte gli era stato posticipato il rientro fino a che viene ucciso dalla ricostruzione che noi facciamo complessivamente anche prendendo in considerazione quelle che sono le fonti OSINT quindi prendendo quelle che sulla sulla vicenda di Causi sono emerse sia da internet sia da approfondimenti di studio fatti da giornalisti investigativi che hanno curato quella tematica in modo particolare Massimiliano Giantantoni che ha scritto un testo dedicato proprio alla morte di Licausi abbiamo approfondito altri temi che riguardano per un verso le modalità della morte il fatto che Licausi fosse in assoluta apprensione subito prima della partenza per andare in Somalia sul fatto che la sua pistola personale di punto in bianco sarebbe sparita il fatto che immediatamente dopo la morte per lungo periodo una persona del servizio sarebbe stata a casa sua con i parenti per curare tutte le vicende le necessità burocratiche della famiglia pur non essendo una persona di famiglia e altre questioni per poter esplorare più in dettaglio quello che sto dicendo devo necessariamente poter fare riferimento alle testimonianze che sono state acquisite e in modo particolare quella di Daniela Licausi e quella di Francesco Crescenzo se mi è consentito Dottore Di Stefano dipende in che termini noi non possiamo introdurre quello che ci ha detto Daniela Licausi no no infatti non intendo dire questo io intendo soltanto dire intendo soltanto dire che a seguito di una serie di indicazioni che ci provenivano anche attraverso le fonti aperte noi abbiamo ricostruito la vicenda che riguardava la pistola di Vincenzo Licausi pistola che in buona sostanza abbiamo successivamente rinvenuto nella disponibilità di Crescenzo persona che per diverso tempo è rimasta a disposizione della famiglia della famiglia Licausi dopo la morte del marito pistola che successivamente abbiamo documentato è stata distrutta consegnandola al sistema di smaltimento che viene previsto dalle forze militari delle armi che sono in tessuto quindi è stata abbiamo rilevato che quest'arma è stata rilevata dalla famiglia Licausi verso Crescenzo e a distanza di alcuni anni poi Crescenzo si è disfatto di questa pistola distruggendola Crescenzo era il segretario particolare dell'ammiraglio Fulvio Martini bene questo è quanto altra altra questione che non è in fase di approfondimento riguarda invece le le ragioni della morte di Licausi perché secondo alcune mi perdoni mi dica dottore che cosa vuol dire questione in fase di approfondimento mi scusi non la sento cosa vuol dire questione in fase di approfondimento noi qui dobbiamo illustrare soltanto questioni approfondite perché io ho davanti una nota informativa che ho introdotto all'attenzione delle altre parti e quindi della Corte e mi interessa ricostruire quello che nella nota informativa c'è scritto che mi pare di averlo detto più volte in forme diverse va illustrato il contenuto di quello che lei ha fatto non di quello che si sta facendo da parte di un altro ufficio forza completiamo l'esposizione odierna sui temi che ha già introdotto allora io mi stavo semplicemente riferendo con questo non voglio contraddirla ma solo chiarire quello che stavo dicendo nella nella nota che è stata depositata e lei ha inserito il nome di Danieli Causi avevo scritto era stato scritto figlia del decuyus Vincenzo prima era stata assunta presso i servizi in un secondo momento quando la sua curiosità sulla morte del padre è divenuta sempre più insistente allontanata a quanto paio dall'agenzia quindi stavo soltanto facendo riferimento a questa particolare esigenza senza fare riferimento alla ricausi io vorrei che fosse chiaro che se io ho particolari esigenze faccio delle domande specifiche d'accordo ma era solo per dire non stavo andando fuori tema stavo soltanto indicando questo ci ho detto c'è un profilo di cui lei ha parlato e vorrei che si ripartisse da questo profilo anche indicando le acquisizioni non se ne abbia male però sono anche io stanco quindi mi metta in condizione di capire cosa sto facendo perché altrimenti per me diventa complicato è un argomento delicato devo stare attento a cosa dico siamo stanchi tutti però la prego di ascoltare quello che io le chiedo io lo faccio mi dica ha illustrato più volte il rilievo dei contenuti tratti alla sentenza italicus bis e ha indicato una serie di circostanze che mi interessano in maniera specifica perché riferibili a questo territorio che hanno a che fare con Bon Giovanni Ivano qual è l'aspetto che vorrei lei precisasse il riferimento al documento Motta Carlo in possesso di Polimeni Cosimo legato da vincoli di parentela con la cosca De Stefano con la famiglia De Stefano da che cosa è tratto allora ne ho ne ho già parlato e ne riparlo ancora ho già indicato più volte che da una relazione di servizio di un appartenente alla scuola mobile di Reggio Calabria di cui vorrei il nome e cognome si chiama Giuseppe Nicolosi sì ma è una relazione di servizio che può essere parificata ad un verbale di dichiarazioni o è una relazione di servizio che si riferisce ad altre operazioni svolte no è una relazione di servizio che il collega aveva conservato agli atti e che è stata acquisita dall'ufficio con una assunzione di informazioni soltanto relativa al fatto che lui avesse redatto questa relazione che ha ritenuto potesse essere di interesse ai nostri atti benissimo in che occasione Nicolosi ha portato alla nostra attenzione l'esistenza di questa relazione di servizio allora Nicolosi ha portato la nostra attenzione alla relazione di servizio perché da persona molto attenta ha curato ha seguito tutto il processo di primo grado di indrangheta stragista e si è reso conto che ci potevano essere collegamenti con il procedimento italicus bis lui in data 11 febbraio del 1990 nel corso di una attività che stava svolgendo per altre ragioni aveva redatto una relazione di servizio benissimo benissimo dottore Di Stefano si fermi un attimo c'è consenso ad acquisire questa relazione di servizio pagina 58 dell'informativa che ho indicato prima mi rivolgo alle altre parti perché oggi faccio fatica ci dice l'allegato per favore se ce l'ha dovrebbe essere l'allegato 20 quindi c'è consenso e allora consenso lo dovete esprimere al microfono deve risultare questo consenso e da parte difensori degli imputati e gli altri difensori delle parti civili non hanno nulla da obiettare e comunque prestano anche loro il consenso sì anche per le parti civili c'è il consenso presidente e allora riservo anche la produzione materiale per il cancelliere di questa relazione di servizio quindi in questa relazione di servizio che cosa c'è scritto che contenuto ha in buona sostanza nel corso di una perquisizione effettuata presso abitazione di Colimeni Cosimo classe 1957 congiunto della di De Stefano Paolo De Stefano Giorgio De Stefano Orazio De Stefano Giovanni era stato rinvenuto un passaporto intestato a tale Motta Carlo successivamente il collega si è reso conto che la fotografia apposta su questo passaporto era la fotografia di Bon Giovanni Vano la data in cui è stata effettuata questa perquisizione è la data del 29 maggio del 1984 la data del 1984 il 29 maggio del 1984 e il giorno successivo alla strage di Brescia il 4 agosto del 1974 vi sarebbe stato poi la strage dell'Italicus il processo Italicus bis è stato incardinato a carico di Bon Giovanni Vano più altri e agli atti anche del processo di Brescia vi erano riferimenti al fatto che anche Bon Giovanni Vano potesse essere cointeressato a quei fatti erroneamente nell'informativa è riportato alla pagina 61 un dato sbagliato sul fatto che la data sia che la che si parlava del sequestro Vincenzo Diano è un refuso di stampa che non vava preso in considerazione capito senta lei in grado di dirmi se in relazione al rinvenimento del passaporto quindi nel 1984 il Polimeni fu tratto in arresto si fu tratto in arresto per proprio per la questione relativa al passaporto falso avete rinvenuto gli atti relativi all'arresto no non li abbiamo rinvenuti quindi che sia stato tratto in arresto da che cosa si ricava si deduce lo ricaviamo dalla stessa relazione di servizio va bene un altro profilo certamente rilevante al quale potremmo anche ricollegare quell'attualizzazione dei rapporti tra Andrangheta e Banda della Magliana e quello che riguarda a questo punto gli eventuali legami tra il Bon Giovanni e quindi il soggetto che lei ha collegato a Polimeni e Ide Stefano e appartenenti alla Banda della Magliana Allora Sempre proseguendo dalla sentenza ordinanza di Bologna numero 1329 barra barra 84 RGG viene testualmente riportato a carico del Bon Giovanni che sarebbe stato interessato a intorbitire le risultanze di ben quattro istruttori quella di Brescia strage di Piazza della Loggia quella di Terampo attentato a Silvi Marina nonché le due concernenti le stragi di Bologna e dell'Ica dell'Icus va inoltre rimarcato il fatto che Ivano Bon Giovanni è stato in contatto per ragioni di natura criminale con la Banda della Magliana egli stesso afferma di aver conosciuto e frequentato Enrico Nicoletti e Bergamelli e di essere stato anche ammesso a cena organizzate da Costoro cui in un'occasione prese parte anche il noto giornalista Mino Pecorelli direttore di una pubblicazione denominata OP legata da ambigui rapporti alla P2 ai servizi segreti e più tardi assassinato il collegamento fra Bon Giovanni e la Banda della Magliana è di estrema importanza per comprendere le reali motivazioni della sua attività tesa a screditare le indagini in quanto la Banda della Magliana è il serbatoio da cui sono stati tratti uomini utilizzati per alcune fra le più torbine attività di depistaggio quali Guglielmo Sinibaldi e Massimo Carminati da altre attività abbiamo rilevato che vi erano rapporti tra Nicoletti e Vincenzo Caffari Vincenzo Caffari da una scheda biografica relativa ad Enso Caffari che si trova agli atti del mio ufficio è indicato che relativamente al Cabbassi è da rilevare il suo coinvolgimento in vicende quali il caso Calvi ed il fallimento della Ferco Ferroviaria da Costruzioni ceduta dallo stesso Al Bonetti nelle suddette operazioni economiche particolari di importanza rivestì l'avvocato Giuseppe Calì considerato consulente finanziario del Cabbassi è rilevante il fatto che il nominativo di Calì fu riscontrato sull'agente telefonica e del Caffari di Ludovico Ligato e di Renato Dandria dall'analisi della documentazione acquisita si evidenziò che il Caffari per far fronte alla necessità finanziaria relativa all'operazione chiese una somma di denaro a tale Mario Chiappini che cedette alcuni libretti al portatore per un valore di 2 miliardi in custodia al notaio Michele Diciamo il Diciamo fu accetto di attività investigativa da parte della crimine sul conto del finanziario Luciano Sgarlata e sulla società OTC fallita con un buco da 60 miliardi nonostante gli sforzi fatti da numerosi personaggi per salvarla le indagini accertarono questa relazione di servizio è tratta da quale operazione mi scusi questa è una scheda biografica all'interno questa è una scheda all'interno dell'operazione Olimpia operazione Olimpia le indagini accertarono un preciso collegamento tra Diciamo ed Enrico Nicoletti noto pregiudicato operante nella capitale proprio la citata Operazione Prato nella quale Caffari intervenne direttamente a fornire un decisivo elemento di collegamento tra le attività di dette personaggi soprattutto con Michele Di Ciommo e con il Nicoletti infatti la crimine al polo di Roma e di Firenze accertò che la società Etruria 2000 proprietaria dell'omonimo albergo di Prato fu acquistata dalla società Mancini Lavori di Roma indicativo il fatto che è quale unico nuovo proprietario si presentò proprio Enrico Nicoletti contatti del Caffari con gli ambienti criminosi riconducibili a Nicoletti furono casualmente evidenziati anche nel corso dell'attività investigativa svolta dalla questura di Reggio Calabria a seguito del sequestro di Tiano Vincenzo ultimo punto che è rilevante al centro di detta organizzazione era posto il già citato Alvaro Giardilli la cui attività criminale oscillava tra denunce per reati comuni e contatti con personaggi dello spessore di Francesco Pazienza ulteriori accuse formate nei confronti del Giardilli riguardano la sua intermediazione con esponenti della Camorra napoletana quali Vincenzo Casillo Vincenzo Casillo sarebbe stato l'esecutore materiale dell'omicidio Calvi a Londra e Vincenzo Casillo sarebbe poi morto in un attentato di Damitardo nei pressi della sede del raggruppamento unità di spesa di via Bineta Sacchetti a Roma il 29 gennaio del 1983 Senza il pazienza di cui lei ha appena parlato e il pazienza di cui trovo traccia nella relazione del comitato parlamentare sui servizi che lei ha già utilizzato oggi varie volte quindi stiamo parlando la documento trasmesso il 6 aprile 95 ai presidenti di Camera e Senato in cui al punto 43 si dice il super sismi e l'attività di Francesco pazienza se si parla di superficie non ho motivo di dire che non sia lui sicuramente è lui quanto trovo un attimo nel documento pagina 63 di quella relazione sì ma io ho bisogno di saperlo con certezza che sia lui mi diamo un attimo di tempo di tempo forse se c'è a lei il documento lo può consultare il test perché è comprensibile che forse in questo momento non lo si se ha difficoltà a trovarla sicuramente si no no va bene non ci siamo va bene sì sì confermo va bene basta questo perché poi chiederemo l'acquisizione di quella relazione effettivamente sono più di quattro ore che lei sta deponendo quindi se riteniamo tra l'altro sono le quattro e mezzo se volete possiamo anche chiudere no più che altro credo che sia il problema dei documenti che si sono per concludere io lo dico a voi per me possiamo concludere che il test è pure stanco volevo soltanto è una deposizione che è abbastanza complessa anche qui fornendo io i documenti che servono ma perché davvero siamo all'ultima pagina quindi che il dottore Di Stefano a questo punto ci spiegasse sulla base di quali acquisizioni siamo in grado di attualizzare i rapporti tra famiglia De Stefano e banda della Magliana o meglio esponenti della banda della Magliana datemi il tempo di recuperare quella informativa perché mi è caduta vorrei ovviamente che lei arrivasse a queste indicazioni tornando solo per un attimo anche questa gliela posso fornire io capisco che quando cadono i documenti il problema diventa serio all'informativa che lei stava illustrando prima nella parte in cui lei indica il summit presso il ristorante il fungo del 18 ottobre 75 quindi chi era presente perché mi pare che questa fosse una domanda che le avevo posto anche la volta scorsa sì le avevo avevo risposto rispondo nuovamente chi era presente e soprattutto l'attualizzazione oggi quali soggetti riguarda oggi insomma oggi non tanto circa dieci anni fa allora l'avevo già detto all'inizio della deposizione lo ripeto allora erano presenti Saverio Pammoridi Giuseppe Piro Malli Paolo De Stefano Pasquale Condello Giuseppe Nardi Maglio Vitale Urbani Gianfranco avevo fatto riferimento come? mi scusi quelli della bandera Magliana Giuseppe Nardi Maglio Vitale Urbani Gianfranco avevo fatto riferimento ha le generalità complete di questi soggetti qui non le ho no qui se è possibile integreremo su questo passaggio perché vorrei evitare omonimie bene prego sì allora avevo anche precisato che in questo contesto era stata riscontrata un'intercettazione delle telefonate tra Gianfranco Urbani e altri soggetti da lì rilevando la presenza di contatti telefonici anche con Angelo La Barbera e con Cortese Carmelo avevo poi spiegato che sul posto De Stefano Piro Malli Nardi e il Condello erano arrivati con una motovettura Vercedes che era di proprietà della RAF di Carmelo Cortese ho poi precisato che dagli atti della nona legislatura avevamo rinvenuto una perquisizione effettuata alla squadra mobile di Catanzaro il 282 77 dove erano stati sequestrati nell'abitazione del Cortese documenti riguardanti la costituzione della documenti riguardanti alcune logge e la logge P2 in particolare la squadra mobile di Catanzaro era andata a casa del Cortese al fine di rintracciare Giorgio De Stefano e Cortese aveva indicato che Giorgio De Stefano collaborava con la sua azienda avevo poi detto che vi sarebbe stata una attualità dei rapporti del Giuseppe Nardi presente in quella riunione che sono stati riscontrati in epoca più recente e in modo particolare nell'anno 2009 a seguito di intercettazioni telefoniche che sono state effettuate dalla squadra mobile di Reggio Calabria ci dia ovviamente gli estremi se cita dei progressivi ci dia gli estremi e le intercettazioni che richiamo allora il procedimento è 3435 2008 il 34 3508 il RIT 8509 è messo in data 15 gennaio 2009 e l'intercettazione è stata effettuata sull'utenza 0965 27 840 intestato allo studio legale dell'avvocato Emilio Tommasini e Paolo l'intercettazione è l'intercettazione in forma riassuntiva e quindi ne riporto quella che è la sintesi mi scusi solo un attimo Presidente sono consapevole che l'utilizzo delle intercettazioni è un regime se non ci sono opposizioni io credo che il test possa illustrare quello che è il contenuto ovviamente senza acquisirla con le forme delle perizie o se c'è consenso producendo anche la trascrizione dell'APG cioè l'utilizzo che se ne può fare è limitato a fini di prova ma non è precluso credo che possa dirci quali passaggi dell'intercettazione hanno ritenuto di valorizzare poi mi rimetto alle vostre valutazioni si tratta di un'intercettazione effettuata in quale procedimento che è strane al processo al momento è un'intercettazione che in questo momento è strane al processo questo l'avevo capito però attinta da qualche altro procedimento credo no? sì su questo punto io ho sempre consentito che chi ha svolto l'indagine e poi ha riferito in un'informativa possa sinteticamente torniamo sempre allo stesso discorso fornirci il dato che hanno loro ricavato dall'analisi di quella intercettazione ma per utilizzare il contenuto o si introduce nel nostro procedimento con le modalità che poi saranno ritenute opportune perché se c'è il consenso delle parti all'utilizzazione del supporto magnetico e del verbale sintetico che viene fatto dalla PC se no poi occorrebbe effettuare una perizia io quello che dico in questo momento è che salvo il consenso delle parti il test ci può dire noi investigativamente abbiamo analizzato questa intercettazione da lì da quella abbiamo tratto questo dato punto sì concordo in via sintetica ecco solo questo poi comunque per utilizzarlo come elemento ci vuole tutto quello che ho detto dopo su questo punto non so i difensori cosa hanno da dire se hanno qualcosa da dire perché credo che non ci sia neanche materialmente poi la produzione il supporto audio non ce l'ho presidente quindi non lo so dovrei estrapolarlo dai nostri server e ovviamente metterlo a disposizione eventualmente poi insomma non lo so va bene ne prendiamo atto e allora potete chiudere il collegamento l'udienza del 2 è revocata comunque vi faremo comunicazione e la successiva è quella del 16 marzo no ma avrete sempre la comunicazione va bene dico i difensori e chiaramente dovranno al momento presidente non c'è il consenso su questo va bene entrambi i difensori allora se vuole indicarsi il passaggio giusto perché serva al procuratore generale solo diciamo i passaggi che voi avete ritenuto di valorizzare al fine di dare traccia di questi rapporti che vanno ben oltre il 75 allora emerge in sintesi che Giuseppe Nardi il numero di progressivo l'aveva segnalato no ha dato il numero del RIT adesso do le indicazioni aggiuntive allora il primo progressivo 1784 del 9 settembre del 2009 in buona sostanza il Nardi cerca un contatto con la famiglia di Stefano attraverso l'avvocato Tommasini e chiede che siano portati i saluti alla signora Enrico Rosa Enrico Rosa è la vedova di Paolo De Stefano a questa conversazione segue un'altra quando questa mi pare che la data non ce l'ha indicata ce l'ha detta 9 9 2009 va bene segue altra conversazione del progressivo 1828 del 17 settembre mi scusi i soggetti intercettati sono sempre Enardi e l'avvocato Tommasini Enardi e in questo caso il fratello dell'avvocato Tommasini il fratello Paolo e forse il figlio o il figlio scusi e in questo caso Enardi si annuncia dicendo di essere un vecchio amico De Stefano che voleva parlare con l'avvocato Tommasini questi aspetti sono solo due i progressivi non ho la nota davanti quindi mi perdonerà sì quelli dove c'è il contatto diretto sono due quindi oltre a cercare il contatto con la famiglia De Stefano Nardi fa riferimento ad un De Stefano in particolare con cui vuole parlare c'è un riferimento che però non vedo qui lo vedo in una parte poi della della sintesi di informativa che viene redatta dalla squadra mobile in cui si fa riferimento a Orazio De Stefano un attimo soltanto perché non è un documento che viene generato da noi allora nella prima conversazione e prima di parlare di Rosetta Enrico si fa riferimento ad Orazio Orazio è da intendersi Orazio De Stefano coniugato con benestare Antonietta ci vuol dire in che termini si fa riferimento a Orazio cioè c'è un saluto a Orazio o c'è una richiesta di contatto con Orazio è una richiesta riferita alla trasmissione di di una di una missiva io stavo mettendo i contenuti della conversazione stavo molto sintetizzando no 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 vado io a memoria per quello che sono i passaggi quindi se preferite che io la legga di mio interesse no no sono questi i passaggi di mio interesse quindi si cerca un contatto con Orazio attraverso una missiva attraverso una missiva perché dice doveva inviargli una lettera e quindi chiede di Orazio poi successivamente chiede di salutare Rosetta lei è in grado di dirmi ora ovviamente lo documenterò in altro modo se Orazio De Stefano in quel momento era al 41 bis 2009 2009 era già stato catturato 2009 era già stato catturato no se non ha il dato no non ce l'ho il dato vado a memoria ritengo che fosse già stato catturato ritengo che fosse stato già catturato sì era stato catturato nel 2004 questo è sicuro eh sì ma no a me interessa se fosse proprio sottoposto al regime detentivo speciale se è un dato questo non lo rilevo e non lo ricordo va bene avete valorizzato altri passaggi allora noi ovviamente abbiamo valorizzato il contenuto di questa conversazione correlandolo a ciò che ho già ampiamente indicato in relazione all'erunione del fungo in relazione a ciò che sarebbe venuto l'anno successivo con il furto alla cassa di risparmio di Reggio Calabria dove tra i componenti vi era anche Franco Manenti che faceva parte del che era origine che era di Roma e che era un componente della banda della Magliana va bene presidente per quanto mi riguarda ci possiamo fermare procuratore generale o no sì sì certo forse questo stava dicendo sì questo stavo dicendo sì sì che vedo che ti stai anche stanco come naturale insomma ci ha fornito una una deposizione di più di quattro ore abbastanza complessa come ho detto va bene e volevo solo chiedere al procuratore generale i tempi che può prevedere io credo che la prossima udienza possa finire l'esame presidente nella prossima udienza credo che si possa completare l'esame quindi potremmo allora dedichiamo l'altra udienza ancora all'esame sì solo per il test sì va bene perché dobbiamo prevedere poi ecco per il 24 eventualmente il controesame del test così al 23 marzo cioè quella successiva al 16 va bene ma questo mi raccomando solo le trascrizioni man mano completatele perché la difesa se c'è già quella della volta scorsa se è depositata in cancelleria alla difesa non aspettiamo che arrivi alla fine la deposizione siccome la stiamo scaglionando in più udienza io l'avevo già sollecitato l'altra volta di udienza in udienza dovremmo avere già la trascrizione perché se no poi la difesa mi chiede un mese prima di fare il controesame abbiamo già la trascrizione della volta l'avete già l'importante è questo va bene come l'avremo anche l'abbiamo avuta anche noi è chiaro ma lo dico anche questa di oggi per la prossima volta in modo che poi non facciamo passare molto tempo va bene e mi pare che non c'è da aggiungere altro ci vediamo la prossima volta che è il 16 marzo disponiamo nuovamente il collegamento va bene grazie 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 dottor grazie a tutti grazie a tutti